ok siamo live buon pomeriggio a tutti professor bruschi buon pomeriggio benvenuti a questo webinar organizzato la società italiana di parassitologia a nome del consiglio direttivo della società stessa nel terzo webinar che viene organizzato quest'anno dopo quello sulla leishmaniosi e sulla malaria argomento come sapete l'antelminti con resistenza in campo veterinario un problema molto sentito molto meno lo è in campo umano ma come spesso è accaduto in passato la medicina veterinaria fa d'apri pista per le problematiche che riguardano anche l'uomo basti pensare all'ivermittina scoperta fondamentalmente per il controllo della dirofilariosi che poi si è rivelato un farmaco essenziale per la terapia delle filariosi umane o allo studio dei simbionti di volbachia che hanno aperto la strada al controllo sempre delle filariosi io non vi rubo altro tempo vi auguro un buon lavoro e spero di seguire una buona parte di questo pomeriggio grazie presidente grazie anche alla soipa e al consiglio direttivo per aver organizzato questo nuovo appuntamento eh per il quale diamo il benvenuto a tutti coloro che ci stanno seguendo anche in diretta Facebook dagli addetti ai lavori a chi segue anche solo per pura curiosità oggi come ha anticipato appunto il nostro presidente si parlerà di lotta ai vermi elminti eh parassiti dei ruminanti che rappresentano sicuramente una minaccia per il benessere degli animali e eh una minaccia anche alle loro produzioni e i nostri servizi veterinari controllano questi elminti la diffusione di questi elminti attraverso la gestione degli ambienti di allevamento e l'utilizzo di molecole antielmintiche e su questo argomento ci dobbiamo porre molte domande quali sono i principi di controllo ad esempio le strategie condivise a livello internazionale quali sono le esperienze nelle regioni italiane più rappresentative del nostro patrimonio di ruminanti in particolare dell'allamamento ovino che cosa fa la ricerca per trovare mezzi di controllo alternativi o comunque di supporto a quelli attualmente disponibili e vi siete mai confrontati con la realtà di campo ecco a tutte queste domande oggi cerchiamo appunto di dare una risposta grazie agli interventi di autorevoli relatrici e relatori che ovviamente ringrazio a nome di tutta la società italiana di parassitologia in primis appunto del presidente di tutto il consiglio direttivo e ovviamente gli diamo il benvenuto e a questo punto io passo la parola alla mia collega la professoressa Laura Rinaldi facendole una domanda è la domanda più importante quella dalla quale partirà tutto oggi cioè queste molecole antielmintiche che utilizziamo per uccidere questi vermi che hanno anche una certa età soprattutto alcune sono ancora totalmente efficaci oppure grazie grazie Tony grazie per la domanda alla quale rispondo in parte e poi avremo modo con i nostri relatori di andare più a fondo all'argomento e soprattutto c'è da chiedersi se l'utilizzo di questi antiparassitari sia fatto nelle modalità giuste con le cosiddette best practice e quindi io mi associo ai saluti di benvenuto del professor Bruschi e del professor frangipane di De Galbono con il quale ho avuto il piacere di organizzare questo evento ringrazio tutto il consiglio direttivo della della SOIPA e il nostro scopo è stato quello proprio di fornire una panoramica aggiornata sullo status del controllo dei vermi degli elmenti e dei ruminanti e sullo status attuale dell'antilmentico resistenza sia per quanto riguarda la sua diffusione ma anche per quanto riguarda l'impatto economico e anche lasciatemi dire magari ne discuteremo alla fine l'impatto sociale perché hanno anche un impatto sociale e devo dire sono d'accordo al professore Bruschi che in medicina veterinale facciamo sempre un po' da pipista però anche in medicina veterinale il controllo degli elementi e ruminanti è stato un po' negletto negli anni passati. Adesso c'è una rinnovata invece e nuova attenzione e questa è testimoniata sia da diversi progetti e network europei ma anche nazionali e sia soprattutto dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel campo della diagnosi nel campo del controllo dell'uso razionale del parma poi anche nell'ambito del controllo naturale e quindi io ringrazio innanzitutto Tony ma ringrazio tantissimo Antonio Varcasia che è componente del consiglio direttivo della SOIPA nonché diciamo il deus ex machina di tutti questi webinar è lui che crede nel public engagement e è lui che fa da regia è stato il promotore dei video che avete visto sui social ringrazio i sei relatori che porteranno le loro esperienze non soltanto scientifiche ma anche pratiche su questo argomento perché il senso di questi webinar è proprio di trasferire i risultati dell'accademia della ricerca alla pratica e quindi non posso che ringraziare il primo relatore che oltre a essere un ricercatore di fama internazionale è anche una persona deliziosa è un amico che conosco da 15 anni e lui è davvero l'esempio del public engagement perché lui è Johannes Scherliero ovviamente è un medico veterinario è diplomato del college europeo di parassitologia veterinaria e viene dal mondo accademico lui ha trascorso 13 anni eh presso il laboratorio di parassitologia delle università di Ghent eh in Belgio dove è stato prima PhD e poi postdoc e dopo che ha fatto dopo eh proprio a a testimonianza della terza missione dell'università ha intrapreso invece la strada imprenditoriale e quindi nel duemiladiciassette ha fondato Creavet Creavet che è un'azienda di consulenza nel campo dell'animal health della della salute animale e quindi diciamo che tutto il suo background accademico l'ha trasferito lo trasferisce alla pratica mantenendo ancora i rapporti con con l'accademia eh ha un curriculum davvero di di tutto rispetto e nuova è autore di più di novanta pubblicazioni scientifiche vincitori di diversi premi internazionali e soprattutto ehm eh adesso coordina Combar di cui vi parlerà che è una cost action proprio dedicata all'argomento all'antimitico l'esistenza niruminanti e quindi Johannes the video and the floor is yours so uh you can share your presentation ok ok thank you thank you Laura uh and sorry it will be in English my Italian is for but uh let me first uh congratulate you also on beating Belgium in the European Championship so I'm still very depressed and I hope I will be able to give a good presentation um because I'm still mentally uh yes covering up and also congratulations for yesterday but um okay so now more seriously and I'm going to presenting modes and we need we need to work together okay Johannes right okay so we're of course we're competing as as countries in soccer let's say but we're also one Europe and if we are dealing with a problem like anti-mintic resistance of course we need national strategies but we also need European strategy and we need we need to work together uh as we can achieve much more if we do that so the my presentation will be on what are we doing in Europe or how are we collaborating and we're of course talking on these infections helmet infections of grazing livestock yes yes maybe this is um repetition but just to make it clear we are talking of infections of in sheep in cattle and in goats and we're and when we're talking of helmet infections we're talking of trematodes like the liver fluke um of nematodes like uh that inhabit in the stomach or the intestines of the animals like ostertagia the hostongelus or sestotes like moniadia etc but when we talk anti-mintic resistance we see mainly the problem first of all in the nematodes and also um in to some extent in liver fluke and before going into the topic of anti-mintic resistance we let's ask ourselves why actually are we controlling these parasites why is it important to to keep track uh of these parasites and of course it is because we want healthy livestock and also good animal animal welfare and if you know um parasites can cause severe uh disease diarrhea edema like bottle jaw um emaciation growth retardation coughing for lung worms and severe inflammation of the stomach and and intestines and and this is clearly something we cannot tolerate and we have to control it with that that's also our responsibility as a veterinary community this this we cannot tolerate but it's more than that and we have been very successful in controlling this clinical disease but parasites it's also of course about people about ensuring good food security and safe and high quality food therefore we are also controlling parasites and as such parasite control is important to contribute to the productivity of the animals and also for rentable profitable livestock farming this was one paper we did with our european network in combar where we for the where we did an initial assessment of the economic burden of these infections in europe um and we can see so the the costs are there in all sectors dairy cattle beef cattle dairy sheep meat sheep dairy goats we estimate an initial estimate is that this costs these infections are costing europe almost 2 billion euros annually you can see the largest costs are like in in countries with big livestock populations like france and the uk but and in italy it's somewhat lower but still we estimate that today it's about 66 million per year and then a final cause why we are controlling parasites and more and more evidence is being generated of is also now with enormous attention on the environment. So the greenhouse gas emissions, climate change, etc. Parasites are increasing the greenhouse gas emissions from livestock. And also there's other component like the entelmintics that we're using. They can disseminate in the environment. They could impact on biodiversity. And that's also something we want to avoid where possible. So this is why we are controlling parasites. And the question is, is all this at risk? Are we threatening to lose all of these good things that we can do now by using entelmintics? And it's clear that entelmintics make an essential contribution to sustainability overall. So it's not about throwing away the entelmintics. We will need them now and we will need them in the future. And they are contributing to food and nutrition security, to livelihoods, economic growth in rural areas, animal health welfare, and this climate and natural resources. And let's ask ourselves, what is entelmintic resistance? Entelmintic resistance, because we are differentiating that from entelmintic efficacy, and it's not always easy to do that. Entelmintic resistance means that the parasites are able to survive a dose of a drug that would normally kill them, and they can pass that on to their next generation. So there is a genetic component in that. And besides entelmintic resistance, there are many other reasons for reduced entelmintic efficacy, and we have to keep that in mind, and it's not always so we cannot necessarily always talk of resistance when there is reduced efficacy. But what do we know in Europe? In Europe, more and more reports have been generated over the last decades, and yes, in most of the countries where such service are being conducted, we see that there are reports of entelmintic resistance. In our action, in our COMBAR action, what we have done, we have been summarizing and inventorizing all the available surveys in Europe. So these were 535 studies from over 120 publications, and what we clearly see is that the prevalence of resistance, as reported in the survey, is increasing over time since the 1980s. And we also see that actually it is present against all the different classes that we have. So the benzimidazole, the levamizole, microcyclic lactones, and moxidectin, which actually is also microcyclic lactone, but has a little bit of different properties. So, and here are the overall weighted prevalence estimates that we could say this could count for Europe, at the European level. And what we see is that previously we considered are mainly to be a problem in sheep and goats, where it was known as a severe problem. But now we can say that also in cattle, the prevalence of resistance against the important class of the microcyclic lactones is as high in cattle and in sheep. So it's not only anymore a problem of sheep. So it's not only anymore a problem of sheep. I tried to tease out other data we generated with our actions some for Italy. You can see in Italy for antelomintic resistance as a quite particular situation. Here is the different for the prevalence of antelomintic resistance in sheep in Italy, and then compared to the European average. You will see that for the different classes actually the prevalence of antelomintic resistance in Italy is still considered to be quite low. Only in sheep there are there are some some levels, but it's still lower than the European average in goats and cattle. There's also fewer surveys, but there is very limited evidence of resistance in Italy. So if this is the case, I don't know you will you will go into deeper into that, but then clearly it's something you should maintain maintain to keep it that way. We are also working on human behavior, because if we want that a more prudent use of antelomintics, a more selective use of antelomintics. It's it's not only of the tools, but it's also a thing of the mindset. We need to approach it differently and we need to change our behavior. So we're we are working also with sociologists into that and actually also here these are just preliminary findings, so it may still change in the future, etc. But the first indication actually there are some differences in Europe between different countries and how people approach the problem. In like in Belgium, for instance, and also more in in northern countries like like Norway, we saw that the largest influence of how people have how farmers look at sustainable approaches, unlike such as the use of diagnostics before making treatment decisions. They are largely influenced by their colleagues, by peer farmers and by their vets, while there is there was a very low awareness of the threat of resistance. Nobody considers it as a real problem and also a low of the control, meaning like how capable do I feel myself of controlling the problem of doing the treatment of doing the diagnosis, etc. And as I said, these are very, these are limited data. But if we compare this with it with combat European survey, and it appears that in Italy and maybe in southern Europe in general, there is a different approach. Actually, there we see that the threat of antelmintic resistance was considered severe and was an important influencer of how we look at the problem and how we will change our behavior. Also, the perceived control has a large influence. Also, the perceived control has a large influence. Do I feel confident in applying the diagnosis? Do I feel confident in applying in the good way the antelmintic treatment? This is influencing how we actually do the things while there was a lower influence of how are my colleague farmers thinking about the problem or what is my veterinary advice on it. It's definitely something to look further in the future in these things. And then another thing I teached out for Italy was comparing the cost of the infections, the cost of the treatment, and the cost of antelmintic resistance. For instance, for instance, we see in dairy cattle, and these are, as I said, these are estimates that don't take it for like, this is the only true number. It's all the methods, etc. are all explained in this paper, but so we estimate the total cost of infections of gastrointestinal nematodes, liver fluke, lung worms in dairy cattle in Europe at 11 million per year. But what we see, the largest proportion of this cost is caused by the actual production losses of the animals. Then there is, let's say, about maybe 30%, 25% of the costs are due or what the farmers are spending on treatment. And then there is a very small, like 1%, 2%. This is the cost of antelmintic resistance in it. What we see actually, when we go to, for instance, the meat sheep and the dairy sheep, we see that actually the contribution of the cost of the treatments, we estimated them to be higher than the actual cost of the infection. So maybe this would indicate that in these sectors, maybe there is an opportunity to reduce the level of antelmintic use to make a more prudent use, as the infections are probably low and not causing so much production losses today. And maybe we could reduce a little bit of antelmintic use without losing in productivity. So, but these were some Italian figures I tried to tease out of our data, but in general, we need a European approach. And we have been lucky to be granted with this cost action, COMBAR, combating antelmintic resistance in Europe. Today, we have a scientific network of about 200 scientists who are collaborating on this team. And we have 33 participating countries in Europe, but also near neighbor countries, such as you can see here, Turkey. But we also collaborate with people in the States, South America, etc. The network is managed by this core group. And we have divided our work in three working groups. One is led by Professor Rinaldi and is dealing with how can we improve the diagnosis of the infection and of antelmintic resistance. One is leading on, as I try to explain, on the economic aspects, but also on the human behavior aspects. So we're working with sociologists and economists. And one is on sustainable control, where we try to integrate everything, be it the diagnostic approaches, but also the research on the vaccines, research on targeted selective treatments, research on the nutritional approaches, as there will be some later presentations today on that. Well, we all try to combine that together because in the end, we need these different disciplines to work together and to be integrated for one solution, better parasite control. And this is just this was the last picture of our network. It's now with Corona. It's already two years ago. It was in Ghent. And I'm very proud I can be chair of this wonderful network. Just to direct you to our website. So we have a website combarca.eu. And here we are publishing our outputs. Of course, we have scientific publications in various journals. And also we are having a special issue where new outputs will appear in the in the journal called parasite. We have developed based on common on a lot of discussions and common agreement. Fecal egg count reduction test protocols. So it basically it means a European wide agreed on how well will we do Fecal egg count reduction tests in the future so that results can be better compared between the different countries. We have developed a number of webinars as well. Animation video. And instruction videos, but above all, we're meeting together and we're discussing and trying to harmonize things and to improve things in Europe. And one of the things. So we have two reports available for decision makers also at the European level. It's really outcomes of the discussions on how can we improve the control, what should be done and what also what should be done from the research part. So if we look into these recommendations, it is clear that research wise for better control, we will need different things. We will need a multifaceted approach. We will need research for better diagnostics. We lack good molecular tests for detecting antelmintic resistance against all major drug losses. We also lack pen site tests, easy, quick to use tests that can be used in the stable and make good decisions. Should I treat or should I not treat? We need vaccines. But this is still a long way because we still lack a proper understanding of the immune mechanisms of natural and vaccine induced immunity. And when we lack insights in good expression systems so that we can produce the protective antigens at large scale. But we also, it's not, we should, as I said, we should not throw away the therapeutics. The therapeutics are here. They are still working and we need, but we need to be sure that we keep them working by using them prudently. And we, and we, and we, we also need to maintain research into new therapeutics because yes, this is possible and, and, and companies, et cetera, are still investing in that. So new therapeutics, but also ways to improve, to increase the efficacy of the, 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 the antelmintics we have now by, by using pharmacokinetic and pharmacodynamic approaches. And overall, these are the tools I just explained, but overall, this should lead to integrated parasite control where we use these tools also considering the local epidemiology, the level of resistance, climate changes and farm management practices. And so what we have done in COMBAR, but, uh, together with the livestock element research alliance, like, which is really, uh, an alliance of researchers trying to promote research in this area. And we have collaborated with star itis to, to develop research roadmaps, research roadmaps that really start from the beginning or the fundamental, the basic research on the genome. On the host genetics. Then going into the environment. Then going into the environment. How is, for instance, uh, climate and farm management influencing the infections going to early prediction systems modeling interventions and all these end together should lead to control strategies. So, and this is a research roadmap because in each lead of behind each of these blocks. We have listed what needs to be done research wise to improve our understanding. And if we can then go through out. All this roadmap. This in the end will result in improved control strategies. And, and it's clear that it's not only let's say the research because today still we are heavily scientifically driven. It's like, let's say a problem by often still by researchers, but not necessarily perceived a problem on the ground by the, by the veterinarians, by the farmers. So really what we need is not only scientific research, but really collaborative projects. It's multi actor projects where institutions, academia, government is working together with laboratories, with veterinarians, with the farmers to say, okay, how can we work on this together? And what will, what do we want to achieve? And what do, can we achieve? So one of the recommendations was also, we need centers of expertise. And this can be done at the net, at the national level. But actually we would need that in several member states. And so that in each country, we can have a kind of a platform where these different institutes, where the academia is working together with the farmers, with the veterinarians, with the government. So that we have really centers of expertise in promoting, in developing good practices, promoting good practices, characterizing, developing better diagnostics, characterizing resistant strains, et cetera, that can really advance the area. Yeah. I believe Italy can take a really a leading role into this, because this is the word cloud from our last online meeting, where we had about three, 400 participants. And so you see Italy is the biggest, meaning that most of the participants were from Italy. So clearly, I think there's a large interest into the topic in Italy. And I believe Italy can make a leading role in all this initiative. And with that, I would like to end my presentation. I just, if you want, these are our channels to connect. And this is the end of my presentation. And if there are any questions, I'm happy to take them. Thank you very much. Thank you very much to you, Johannes, for this very interesting presentation and for giving us a complete picture on this very important subject. Thank you very much. Okay. And I invite everyone at the end of the webinar during the discussion to pose any question or to satisfy any curiosity on this topic. Thank you very much again. Now I need to switch in Italian language. I am sorry. Okay. But we will speak slowly to better understand you everything. Okay. Thank you again. I wanted to introduce the professors Antonium Scala from the University of Sassari. del Dipartimento di Medicina Veterinaria e è il leader di un bellissimo gruppo che conosciamo noi nel mondo della parassitologia tutti molto bene, non solo per la simpatia ma anche per l'impegno che svolgono nell'ambito del controllo dei parassiti degli ovini in una delle regioni che rappresentano, che detengono la maggior parte del patrimonio ovino nazionale e che noi parassitologi invidiamo anche molto perché li trovano più facilmente loro di tanti altri di noi in altre regioni, quindi loro sono occupati molto di monitoraggio anche delle possibili misure di prevenzione, di Antielmitico Resistenza, per cui cedo molto volentieri la parola al professor Antonio Scala e mi zittisco. Grazie per questa presentazione. Riuscite a vedere la mia presentazione? Sì. Yes. Ok, allora posso iniziare. Intanto i miei ringraziamenti al comitato direttivo della SUIPA per aver organizzato questo interessante webinar e soprattutto per aver invitato il gruppo di Sassari a parlare appunto di questo problema. Noi, come dire, riportiamo in questa presentazione più che altro quelle che sono le nostre esperienze di campo, quello che facciamo direttamente o indirettamente e che vanno un po' a toccare appunto questo problema dell'Antielmitico Resistenza. In particolare mi occuperò in questa relazione appunto il problema dell'Antielmitico Resistenza nei nematodi gastrointestinali, ma come vedremo non solo. Faccio un preliminare richiamo a quello che è un po' il problema della farmacoresistenza negli ovini e mi faccio aiutare da questo lavoro molto interessante, dove praticamente viene riportato un po' quello che è la cronistoria di quello che è successo per quanto riguarda questo argomento. In particolare vediamo alcune tappe, quali per esempio nel 1964 si incomincia a descrivere la farmacoresistenza nei confronti del tiabendazolo, nel 1979 nel levamisolo, nel 1988 per l'ivermectina e nel 1995 anche la moxidettina incomincia a essere richiamata. Tant'è vero che per quanto riguardava lo stato dell'arte nel 2004 per la moxidettina si parlava di una farmacoresistenza definita emergente. Però gli anni passano, la situazione va avanti e già dal 2013 vediamo appunto delle preoccupanti comunicazioni in tal senso. Direi che la situazione sta iniziando a diventare, io la definisco catastrofica per certi versi, in certe realtà, laddove per esempio negli allevamenti, per esempio in Sudafrica, abbiamo che tutte le aziende praticamente vanno incontro a questo fenomeno della farmacoresistenza. Una farmacoresistenza che sappiamo essere per lo più nei confronti delle moncus, ma compare anche nei confronti di altri generi parassitari. L'anno successivo uno stesso fenomeno si riscontra in Nuova Zelanda, altra realtà in cui gli ovini rappresentano un ruolo assolutamente importante dal punto di vista zootecnico-economico. E anche in questo caso in tutte le aziende viene riscontrata già nel 2014 una resistenza all'albendazolo o all'evamisolo in tutte le aziende dove si va a lavorare. Qual è la situazione in Italia? In parte il nostro collega che mi ha preceduto ha detto già qualche cosa. Già nel 1900 e qualcosa qualche letteratura grigia incomincia a evidenziare una scarsa efficacia dei trattamenti antilmintici. Arriviamo però al 2007 con questo primo lavoro dove si mette in evidenza nell'Italia centrale una resistenza multipla a determinate molecole. La moxidetina continua a funzionare al 100%, però le altre molecole zoppicano. Nel 2014 abbiamo anche questo bel lavoro che prende in considerazione un po' quello che è la realtà del Mediterraneo, dove il fenomeno della farmacoresistenza tutto sommato sembra essere ancora agli esordi o sotto controllo. Questo perché? Perché probabilmente il clima, così dicono gli autori di questo interessante lavoro, ci viene in aiuto perché garantisce la persistenza nei pascoli della componente rifugia delle larve dei nostri nematodi. Questo unito al fatto che forse non trattiamo in maniera molto pesante e che non facciamo muovere molto i nostri rivali, questo potrebbe garantire una certa tranquillità, cosa che però sempre nello stesso anno questo lavoro incomincia a vedere qualche cosa, qualche cosa si muove ed ecco che c'è una resistenza multifarma che è stata osservata in due aziende, praticamente delle dieci che erano state selezionate per questo lavoro multicentrico effettuato a livello europeo. Sempre nel 2014 ecco che nel nord Italia lo stesso viene segnalata una certa farmacoresistenza, nel 2019 sempre nel nord Italia viene confermata la presenza della farmacoresistenza, nel 2020 quest'altro interessante lavoro inizia a vedere appunto una resistenza, sospetta farmacoresistenza, qualcosa si muove anche in questo senso per quanto riguarda l'albendazolo, i generi parassitari chiamati in causa sono i tricostrongilus e soprattutto le moncus. In Sardegna, visto che è questo l'argomento che devo portare avanti, che cosa succede? Noi avevamo fatto una piccola indagine nel 2006 dove avevamo monitorato quello sul campo direttamente quello che succedeva nei trattamenti ed effettivamente abbiamo visto una situazione idilliaca. Io stesso quando ne parlavo con i colleghi dicevo la farmacoresistenza fortunatamente pur essendo consapevole del fatto che un giorno o l'altro sarebbe arrivata però sembrava non essere un problema visti anche questi risultati. Per farvi capire meglio un po' quello che è la situazione in Sardegna vi propongo un paio di diapositive che appunto una nostra specializzanda ha messo su durante i suoi lavori che gli abbiamo coordinato per un'indagine conoscitiva sulle modalità dei trattamenti negli uvini in Sardegna nel periodo che andava dal 2013-2016. È un periodo particolare questo, adesso lo vedremo. Allora questa prima diapositiva non ci meraviglia, sappiamo che il nostro è un allevamento di uvini da latte per cui i trattamenti antiparassitari si concentrano per ovvi motivi nel periodo dell'asciutta e prevalentemente nel mese di agosto e di settembre. Abbiamo chiesto agli allevatori perché ovviamente facevano questo tipo di trattamento perché sceglievano questa questa stagione e nella maggior parte dei casi appunto ci dicono la stagionalità sappiamo che è questa, vediamo un po' gli animali, vediamo un po' come stanno e facciamo il trattamento. Il 42,8% invece direttamente sul consiglio del veterinario, però poi ci sono anche delle voci particolari che chi lavora nel settore ovino conosce per tradizione perché c'è un po' di, mi sembra di essere, di avere un po' di sintomatologia, c'è un consiglio anche di qualche altro allevatore. E quali sono i farmaci che vengono utilizzati, che sono stati utilizzati in questo periodo? Adesso non è cambiato molto rispetto alla seconda parte come vedremo. Nel 49,4% dei casi praticamente si usa olivermectina oppure altri lattoni macrociclici, ma soprattutto olivermectina la fa da padrona, poi abbiamo invece nell'altro 50% circa, un po' meno, l'albendazolo, i probenzimidazolici e altre associazioni di questi farmaci. Questo è il contesto praticamente che noi abbiamo. Diciamo che se andiamo a vedere poi nell'ambito di queste diverse stagioni qual è la percentuale esatta, il confronto tra quello che succedeva nel 2013 verso quello del 2014-2015, e oserei dire anche adesso, è che nell'intervallo tra il 2013 e il 2014 ci sono state delle disposizioni legislative che hanno interessato alcune classi di antilmintici in Italia. E soprattutto nel nel 2013 andava forte un prodotto che era a base di benbenazole colosantel, che veniva effettuato molto volentieri sia dai veterinari che dagli elevatori, perché? Perché era un farmaco che tutto sommato rispondeva bene anche per altri parassiti che avevamo in Sardegna, l'Eostrusovis per esempio, ed ecco che questo veniva usato moltissimo. In questa situazione c'era un uso per esempio del 30% dell'Ivermectina o dei macrolidi, altri macrolidi. Poi successivamente al 2013, venendo o meno questo farmaco, c'è stata questa impennata praticamente dell'Ivermectina. L'Ivermectina il 50% dei trattamenti veniva fatto con questa molecola. Poi chi decideva di usare queste molecole antilmintiche? Questo veramente è un qualche cosa che molto spesso non si riusciva a capire. La motivazione poi, andando a cercare di capire, di indagare su questo aspetto, vediamo che il veterinario aveva un peso del 63% nell'ambito di queste decisioni. Però nel 50% dei casi il veterinario diceva sì, bisogna trattare, ma bisogna trattare in base forse alla sua esperienza, in base a quello che lui riteneva opportuno. Però purtroppo questo bisogna trattare avveniva solo nel 10% dei casi sotto una diagnosi. Cioè la diagnosi vera e propria di laboratorio veniva fatta solo nel 10% dei casi. Poi vi ho scritto qua, preoccupante in ottica di antilmintico resistenza, è anche un'altra motivazione che comporta l'uso di una determinata molecola, che è quello che ti dicono, lo uso da sempre, ho sempre usato quello, mi sono trovato bene con quello, continuerò ad usare quel farmaco. Poi quando si parla di rotazione dei farmaci, ormai tutti ne parlano, se voi sentite anche degli allevatori, vi dicono ma ruoti il farmaco? Sì, 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 faccio una rotazione, eccetera. Ma questa rotazione come avviene? Come? Effettivamente oltre il 50% dei casi l'allevatore ti dice sì, faccio una rotazione dei farmaci, ma poi quando vai a vedere bene, effettivamente una rotazione dei farmaci razionale, su basi diciamo scientifiche, avviene in una percentuale che non è molto elevata, perché nel 40% dei casi, secondo l'allevatore, e talvolta purtroppo mi dispiace dirlo, anche per qualche veterinario, basta cambiare il nome del farmaco oppure basta cambiare la molecola, ma non la classe. E questo è un altro, una cosa che sembrerebbe banale eppure succede. Cioè sì, ho cambiato il farmaco quando magari da un benzinidazolico poi da un benzinidazolico, oppure un benzinidazolico alternato da un altro benzinidazolico, questa per loro è una rotazione e come tale può essere considerata razionale. L'altro problema sempre in ottica di farmacoresistenza, sappiamo che anche la somministrazione del farmaco ha il suo peso rilevante nel controllo di questo importante fenomeno. Ora nel 70% dei casi anche vediamo che è relegato all'allevatore, cioè è l'allevatore che fa il trattamento antinidazolico. Dunque noi quando parliamo di controllo del dosaggio, del controllo della somministrazione, del controllo della pistola dosatrice o della siringa dosatrice eccetera, sono tutti fattori che a noi sfuggono. Il veterinario direttamente in quest'indagine sembra essere coinvolto solo nel 20% dei casi e questo lo stesso è un fattore limitativo e che secondo me il veterinario dovrebbe riappropriarsi di questa operazione proprio per l'importanza che essa ha nel controllo di questi importanti fenomeni. E poi cosa è successo nel frattempo? Abbiamo delle criticità purtroppo con il tempo, ne ho accennato poco fa. Il numero dei farmaci che sono stati ritirati dal commercio per vari motivi eccetera sono tanti, per cui le cartucce che noi avevamo a disposizione per la lotta agli antimitici sono paradossalmente diminuite. Per di più altre non si possono usare nell'allevamento dell'ovino da latte e sono diciamo ovviamente vietate, per cui effettivamente i prodotti ricettabili sono diminuiti notevolmente. Ecco perché molto spesso siamo quasi costretti a ricorrere allo stesso gruppo di molecole, non voglio giustificare nulla, però effettivamente viene più difficile procedere a un controllo sotto questo aspetto. In un momento in cui ovviamente è difficile che si arrivi ad avere delle nuove molecole, delle nuove classi. Perché? Perché lo sappiamo. Fare la sperimentazione costa molto, ci vogliono molti tempi. Dal punto di vista economico il nostro settore non è che sia dei più brillanti. Per cui queste molecole che abbiamo ce le dobbiamo tenere, come si dice, da conto e soprattutto lavorarci il meglio possibile proprio per evitare l'incremento di questo. Ma dobbiamo parlare di antilminti con resistenza? Dobbiamo parlare di diminuzione di efficacia delle molecole? Lavoriamo anche su altri settori, su altri fronti, cosa che stanno facendo determinate case farmaceutiche in maniera molto intelligente, soprattutto perché è spronata da quello che succede sul mercato. Noi forse lavoriamo poco su quelli che sono aspetti di farmacocinetica, biodisponibilità del farmaco, eppure se voi andate a vedere quello che sta succedendo recentemente nel mercato, la gente se ne sta accorgendo, le case farmaceutiche è lo stesso. Vedete che per esempio le formulazioni Puron di eprinomectina che dovevano e avevano qualche anno fa l'ambizione di diciamo sfondare nell'allevamento per esempio dell'ovino da latte perché non aveva tempi di sospensione nel latte eccetera, però si è visto che l'efficacia lasciava parecchio a desiderare, tant'è vero che anche l'uso improprio di questo farmaco è andato aumentando via via, quale per esempio veniva somministrato per via orale, ci si è accorti che per via orale funzionava meglio. Ed ecco che per esempio la formulazione iniettabile immessa da un recentemente in commercio sembra avere delle caratteristiche molto migliori con dei livelli di efficacia notevolmente superiori. Noi sul campo, vi ho messo questa diapositiva della Sardegna perché è stagionale, volevo anche, come dire, suscitare qualche invidia da parte degli ascoltatori anche in questo senso, non solo per la farmacoresistenza. Dicevo, abbiamo fatto delle esperienze di campo purtroppo non direttamente molto spesso indirizzate proprio a valutare quella che era la farmacoresistenza, però ci siamo accorti lavorando su altri progetti e quant'altro dove avevamo bisogno di monitorare in ogni caso diciamo l'efficacia dei trattamenti che effettuavamo sul campo e in particolare questo poi l'abbiamo fatto in dieci aziende e ci siamo trovati di fronte. Io per primo ero, vi posso garantire, veramente meravigliato, incredulo. Le prime due volte, le prime due aziende, quando abbiamo visto i risultati, ho pensato abbiamo usato un farmaco che era scaduto, un farmaco forse abbiamo sottodosato, forse la pistola non andava bene. Abbiamo ripetuto diverse volte questi trattamenti e ci siamo trovati in diversi allevamenti con questi quadri di risultati incredibili, cioè secondo i parametri che vengono normalmente attuati e adottati per vedere se si tratta di farmacoresistenza, sospetto di farmacoresistenza, quelli di Coul per intenderci del 1992 se non ricordo male, è quando è salta fuori che l'ivermectina per via sottocutanea in tutti questi allevamenti ha praticamente messo in evidenza la presenza del fenomeno della resistenza. Il fenomeno della resistenza, farmacoresistenza? Non lo so. Poi abbiamo controllato per esempio l'azione della moxidettina. In questo caso abbiamo visto che per esempio la moxidettina somministrata per os non creava nessun problema, nel senso che avevamo dei livelli di efficacia molto elevati, però quando abbiamo utilizzato anche qua la moxidettina sottocute, ecco qua che abbiamo avuto un sospetto di resistenza. Dunque cosa voglio dire? Voglio dire che probabilmente in questo caso bisogna stare molto attenti, nel senso che stiamo attenti alla via di somministrazione del farmaco, stiamo attenti forse ad rivalutare quelli che sono i dosaggi a seconda della via di somministrazione del farmaco e tutte queste sono ovviamente delle avvisaglie che la farmacoresistenza sta segnalando la sua presenza e forse la sua voglia di crescere anche nei nostri territori. I generi che sono diciamo chiamati in causa, che tutto sommato compaiono in questi fenomeni di sospetto, chiamiamola per il momento scarsa efficacia del farmaco somministrato sottocute, sono soprattutto legati al tricoloso non giusto, alla teledorsagia. È successo anche attraverso queste operazioni di monitoraggio che facevamo sempre sul campo, avevamo sospetto, visto dei trattamenti che avevamo fatto sul campo, sempre di una scarsa efficacia per esempio dell'albendazolo nei confronti della dicroceriosi. Abbiamo fatto dunque monitoraggio ad hoc applicando diciamo un protocollo terapeutico che purtroppo anche in questo caso non mi so spiegare però è diverso a seconda del farmaco che tu prendi perché non sempre nei bugiardini dei farmaci viene riportato il fatto che il dosaggio bisogna raddoppiarlo, che bisogna ripetere il trattamento dopo una settimana. Dunque abbiamo applicato vari vari protocolli però purtroppo l'efficacia per esempio di questi trattamenti nei confronti della dicroceriosi era molto molto bassa. Un'altra cosa strana è che invece a G28 ritroviamo pur sempre sotto quelle che sono le soglie di dichiarata efficacia abbiamo trovato i valori più elevati a G28 che a G14. Anche questo è un fenomeno che meriterebbe una certa una certa riflessione. Cambia ovviamente cambia il parassita probabilmente cambia anche il diciamo il target del controllo di efficacia nei confronti di questi parassiti. Ma perché succede questo probabilmente in Sardegna? Perché la dicroceriosi sappiamo che è una malattia sottovalutata, non sempre viene diagnosticata, decorre in maniera subdola, non preoccupa forse l'allevatore. È presente abbiamo visto anche in un recente lavoro con delle cariche parassitarie non molto elevate. Per cui cosa succede? Sono delle grege in cui si attua il trattamento con l'albendazolo a 3,8 milligrammi. Ed ecco che in presenza di dicrocerium questo albendazolo diventa ampiamente sottodosato e dunque si potrebbe spiegare l'insorgenza di una farmacoresistenza nei confronti della dicroceriosi dell'albendazolo proprio per questi motivi. Un altro aspetto che stiamo prendendo in considerazione giusto per capire cosa fare per cercare di controllare sul campo in pratica questa antilmitico resistenza è quello di trovare un target che possa essere applicato nella nostra realtà laddove c'è una situazione parassitologica diversa e laddove abbiamo la pecora di razza sarda che è una razza di pecora diversa rispetto ad altre per cui probabilmente quello che viene riscontrato in Australia o in Nuova Zelanda o in Sudafrica non è detto che sia applicabile al 100% in Sardegna. Sappiamo tutti i metodi che vengono proposti per i trattamenti selettivi, il metodo famacera dove c'è l'emuncus, la fec però è un po' lunga da portare avanti, lo score della diarrea, livello di produzione di latte, il peso degli animali eccetera. Noi abbiamo voluto invece valutare un po' il body condition score. Perché il body condition score? Perché il body condition score è un qualche cosa che ormai i nostri allevatori attuano per diverse funzioni negli animali, non intacca quello che è il benessere animale, è facilmente praticabile, per cui abbiamo voluto valutare cosa succedeva se noi come target prendevamo in considerazione questo parametro. Lo abbiamo fatto in un greggio sperimentale che seguiamo da anni a Monastire, abbiamo fatto al terzo mese dilattazione e al quinto mese dilattazione e abbiamo fatto un protocollo che per brevità ha, diciamo, un visalto, poi se ne vogliamo parlare ne possiamo parlare. Cosa è successo? Intanto abbiamo lavorato in una situazione in cui avevamo una, diciamo, una prevalenza comprensiva nel greggio dell'85% con livelli medi di 210 uova per grammo di feci, una situazione tutto sommato abbastanza simile nei due momenti in cui siamo andati a fare il monitoraggio, nel senso che trovavamo un 92% di prevalenza con 280 upg al terzo mese, un po' di meno al quinto mese, ma questo sappiamo che può darsi che ci sia anche il post-partum rise, lattation rise, eccetera, che influenzano un po' questi parametri. Il fatto sta, una situazione parasitologica dove vede, come sapevamo anche in Sardegna, esserci una predominanza del tricostrongilus e teledorsagia che insieme erano il 75% delle larve L3 che abbiamo visto, abbiamo stratificato appunto i dati ottenuti per classi di upg e valutato appunto quello che erano le medie di bcs e qua abbiamo già visto un dato abbastanza incoraggiante, perché? Perché praticamente le medie di body condition score tendono a diminuire in maniera altamente significativa dalle classi zero praticamente dei soggetti negativi verso i soggetti che hanno praticamente delle cariche parassitari molto più elevato. C'è una correlazione negativa appunto tra valori di upg e classi di body condition score è un valore diciamo molto significativo con un R2 anche abbastanza interessante. Dal punto di vista pratico che cosa possiamo vedere? Abbiamo visto anche diciamo stratificando i dati per i livelli di body condition score che i tassi di prevalenza non variano granché, questo ce lo aspettavamo. Mentre invece possiamo vedere come le medie di upg tendono a scendere anche in questo modo in questo caso in modo altamente significativo man mano che aumentiamo le classi di body condition score. Se poi andiamo a vedere questo diagramma sulla destra qua possiamo vedere che per esempio nei soggetti delle classi con delle body condition score più basso ci troviamo di fronte effettivamente a dei livelli di upg che non sono compatibili con il rischio zootecnico, cioè questi livelli qua determinano già, intaccano già a quelle che sono i livelli di produzione. Per cui diciamoci potrebbe esserci già un buon margine per poter lavorare in questo senso. Lo abbiamo fatto anche in un'altra categoria di soggetti soprattutto nelle quote di rimonta. Stesso protocollo, anche qua ci siamo trovate una situazione in cui Tricostrongius predominava sul telo d'ossaggia ma non abbiamo ancora diciamo non abbiamo delle quote di parassiti ematofagi tipo Sudafrica per intenderci che ha un clima diverso eccetera. E anche qua lo stesso trend classificato anche qua per classi di upg i dati che avevamo diminuzione significativa trend in discesa di quelle che sono le medie di upg man mano che andavamo a considerare le classi con più valori appunto di upg. Anche qua tassi di prevalenza non vengono diciamo toccati però le medie di upg qua i valori di upg erano più elevati. Vedete come scendono in maniera significativa man mano che andiamo a considerare le classi di body condition score più elevate. E qua in questo caso negli animali nelle quote di rimonta vediamo che già dal score di 2,75 abbiamo già dei livelli che possiamo considerare rischio zootecnico per cui tutti quelli con 2,75 e meno come valori possono essere tranquillamente trattati perché hanno delle quote a rischio. Questo io non voglio dire che da domani mattina si inizierà in Sardegna a monitorare e applicare questo marker però ci vogliamo lavorare e vogliamo andare a fondo su questa cosa faremo delle prove pratiche applicando questo questo diciamo modello di score per quanto riguarda i trattamenti e valuteremo poi dal punto di vista pratico quelli che sono i risultati. Comunque io sono abbastanza fiducioso in tal senso. Così come il nostro gruppo è già impegnato da qualche anno anche su una ricerca che non vede un immediato futuro però qualcosa si sta muovendo in tal senso ed è quello di valutare appunto quello che è la resistenza naturale genetica alle infestioni da nematodi gas intestinali. Sappiamo già che ci sono in letteratura già dal 1970 a 1980 ci sono lavori in tal senso alcune razze più resistenti lo si sa che ci sono per esempio alcune razze come la merinos eccetera sono omozigoti per l'emoglobina A e resistono molto meglio a quelle che sono le infezioni dai moncus contortus. E noi ci stiamo lavorando abbiamo ottenuto dei risultati abbastanza interessanti con l'aiuto anche del genetisti di Agris della Sardegna speriamo stiamo ancora andando avanti speriamo di trovare qualche cosa che possa essere applicabile in pratica in un futuro che non penso sia proprio proprio immediato. Ho finito spero di non avervi annoiato molto in questa in questa presentazione volevo ringraziare ovviamente questo è frutto del lavoro della nostra equip che ci è impegnata praticamente giorno dopo giorno sia sul campo negli allevamenti uvini e anche con diciamo con l'ospedale veterinario che sta andando avanti speriamo vada ancora avanti ancora ancora meglio grazie per l'attenzione. Bene grazie io ringrazio il professor Scala e devo dire che alla scuola sarda va il merito di aver creduto sempre in queste ricerche applicate e anche quando non andavano di moda il professore Scala il professore Varcasi e tutto il team hanno lavorato sempre in campo e quindi questa overview con la particolare attenzione alla Sardegna è stata davvero illuminante e soprattutto sono molto interessanti e penso che ci sarà molta discussione su questi ultimi studi riguardo la resistenza genetica che sicuramente sarà il futuro. Quindi le domande su zoom dopo o in chat su facebook grazie professor Scala. Prego. Mi piacere di introdurre invece la professoressa Annette Abloezel dell'Università di Camerino è professore di parassitologia presso la scuola il polo di medicina veterinaria di Camerino e Annette ha un'esperienza decennale sull'utilizzo di piante medicinali per il controllo della malaria e quindi sono noti i suoi studi in Africa soprattutto però ha particolare amore e attenzione anche nei confronti dei livestock. Ci ha invitato più volte parecchi soci della SOIP a tenere lezioni alla scuola di specializzazione in sanità animale e allevamento e oggi quindi ci parlerà dell'approccio del suo approccio dei suoi studi sull'utilizzo della lupinella per il controllo delle strangelosi gastrointestinali degli ovini. Annette? Grazie mille Laura per la presentazione e per l'invito per fare questa presentazione sulla lupinella e adesso vorrei condividere con voi Ok la vedete? Sì sì vai pure Annette. Anche il mouse la vedete? Sì sì. Ok quindi ecco come vedete già da questa immagine dalla Sardegna ci spostiamo nelle Marche nell'Alto Marceratese e quindi io vorrei raccontarvi raccontarvi dico perché insomma le ricerche i risultati scientifici ci sono ancora pochi sono preliminari ma vorrei raccontarvi di questo progetto sulla lupinella. La lupinella è un nome scientifico Onoprichis vicifolia che è una pianta foragera e nutraceutica e vorrei raccontarvi dei nostri tentativi di valorizzare questa pianta per il controllo dei parasiti intestinali originale nel allevamento ovvino. Quindi si tratta di un progetto ricerca azione non più di un progetto di ricerca perché dopo la farò vedere si sanno già moltissime cose sulla lupinella e le sue diverse attività benefiche non solo antelmentiche e quindi noi vorremmo valorizzare quello che si sa già dalla letteratura scientifico ma anche quello che sappiamo che sanno praticamente gli agricoltori e allevatori del nostro territorio che tradizionalmente coltivano e utilizzano la lupinella. Quindi ecco un progetto che coinvolge agricoltori, allevatori, allevatrici ma certamente anche veterinari del territorio sia liberi professionisti, aziendali ma anche veterinari ASUR e poi ricercatori e ricercatrici di diverse università delle marche ma non solo. Quindi la lupinella per chi ancora non la conosce è chiamata anche crocetta e in inglese anche il suo nome sono tutti i nomi che indicano che questa pianta ha proprietà benefiche interessanti quindi che c'è sapere tradizionale su questa pianta e le sue utilità. Quindi è una pianta coraggio antelmentica e vi ho riportato qua anche la review di Müller e Harvey che vi riassume tutte le sue proprietà benefiche iniziando con quelli antelmentiche contro i nematodi castrointestinali, non contro il cesto di etrematodi, lo dico subito poi riassume le diverse proprietà nutrizionali ottimali e quindi anche studi fatti su quello che è l'impatto quantitativo e qualitativo di questa pianta se viene utilizzato come alimento per gli ovini, studi sono fatti soprattutto sui ovini per quanto riguarda la produzione di carne, latte, lana, crescita ma anche fertilità di animali. Approfondiamo questo che sono le conoscenze già affermate per quanto riguarda l'attività antelmentica quindi c'è una ampia letteratura su attività antelmentica in vitro in vitro utilizzando ostertagia, emoncus, tricostrongilos e valutando l'attività di estratti di lupinella ma anche di frazioni purificati contro gli adulti di questi nematodi ma anche contro stati larvali larva 1, larva 3, le larve infettive valutando l'impatto per esempio sulla mobilità ma anche valutando l'impatto sulla capacità infettiva delle larve L3 e quindi da questi studi già viene fuori che questa pianta ha un'attività in vitro su diversi stadi dei nematodi e probabilmente anche con delle meccanismi di attività diverse. Ora di quello che si sa viene attributo la maggior parte di questa attività la presenza alta in questa pianta di tannini condensati in particolare di tannini del gruppo dei prodelfinidini e procianidini inoltre molti studi fatti con questa pianta o le diverse frazioni hanno fatto capire che non solo è importante la quantità di tannini condensati ma anche il rapporto di protelfinidini a procianidini e più protelfinidine c'è meglio è ma poi anche il grado di polimerizzazione e anche lì più polimerizzato più effetti ci sono. Quindi molti studi in vitro ma anche molti studi in vivo sono presenti in vivo fatto con ovini su agnelli ma anche su capre studi sperimentali con infezioni sperimentali monoparasitarie che per esempio con le moncus o tricostrongilus e poi trattamenti gruppo intervento, gruppo controllo e confronto, valutazione su questo che è l'impatto su questo parassite in termini di uova per cramo emessi ma anche poi dopo l'ispezione, dopo fine l'esperimento la valutazione della presenza di nematodi adulti presente o meno e anche qui i dati sono molto positivi se cerco di riassumere un po' tutti questi diversi studi se si alimenta gli animali per un periodo prolungato di almeno un mese o meglio due esclusivamente con la lupinella come fieno un impatto sui parassiti c'è. Quindi siamo a un punto che si può procedere non c'è più bisogno di provare di raccogliere altra evidenza in studi sperimentali sull'efficacia della pianta si può provare di andare sul campo si può provare di valutare la praticità negli allivamenti di utilizzare questa pianta nel sostegno del controllo dei nematodi gastrointestinali sempre pensato evidentemente in un'ottica di un controllo strategico integrato quindi qui vedete immagini della nostra zona all'alto maceratese e qui la coltivazione della pianta e l'utilizzo come foraggio per gli ovini soprattutto è tradizione diciamo è una pianta che si può coltivare benissimo lì dove siamo al bordo della cultivabilità di foraggi vedete qua in questa immagine siamo montagna a mille mille cinque cento metri un pochino questa tradizione purtroppo non è che posso dire diciamo è venuta a mancare c'è sempre molta coltivazione ma da quando è diventato diciamo più di moda direi di una moda positiva l'erba medica gli allevatori preferiscono dove possono coltivare l'erba medica cioè in terreni più fertile di coltivare l'erba medica anche in zone dove una volta hanno hanno coltivato la vita due tre parole su che cosa è la realtà dell'allevamento ovino nel maceratese sono dei allevamenti a condizione familiale composto molto spesso da poche persone molto spesso da una coppia anziana purtroppo che sono rimasti che ancora lo portano avanti e quindi vediamo spesso molto pochi capi di ovini qualche volta anche insieme con pochi animali magari qualche decina di ovini insieme e quindi purtroppo la realtà nell'alto maceratese come anche penso in altre aree interne e un abbandono dell'attivi di questa attività infatti vediamo un 25 per cento dei componenti di queste attività aziendali vediamo che le persone hanno un'età più di 60 anni ma ecco siamo ottimisti e fiduciosi perché ci sono diverse realtà diciamo di giovani anche di donne che si investono che hanno deciso di rimanere sul territorio anche dopo il terremoto che ha aggiunto altri molte difficoltà qui vedete una tenso stalla una stalla d'emergenza dopo il terremoto e quindi molti giovani che hanno voglia di investire applicano le diciamo le pratiche le strategie europee chiamiamoli così della diversificazione di cercare di aggiungere un agriturismo aggiungere aziende didattiche eccetera eccetera ma anche c'è anche la voglia di valorizzare le tradizioni locali e le piante tradizionali come nel caso della lupinella quindi abbiamo iniziato a fare delle interviste delle chiacchierate con gli allevatori anziani del territorio cioè allevatori che hanno ancora memoria su come è stata utilizzata la lupinella 50 anni fa o anche di più e quindi ci raccontano che sul territorio abbiamo due non varietà ecotipi di lupinella la cosiddetta nostrale che dà soltanto un taglio di fieno l'anno e che si coltiva in montagna va benissimo ecco su su suoli poveri sassosi ma anche si è anche sviluppato un altro ecotipo che loro chiamano la quarantina che dà due tagli e che si può anche coltivare in terreni più bassi dove così come caratteristica del terreno di solito si può mettere anche l'erba mecca l'oro spesso non semina la pianta come monocultura ma delle combinazioni per esempio la lupinella insieme quella quarantina insieme con l'erba medica o l'oglietto evidentemente come foraggio viene utilizzato non solo come fieno ma anche come foraggio fresco quindi gli animali gli uovini pascalano magari ecco nei primi mesi che vanno sul pascolo aprile marzo aprile pascolano sui campi di lupinella o poi dopo il dopo il taglio ripascono su questi campi a settembre ottobre e quindi abbiamo delle situazioni dove gli uovini diciamo sono trattati in virgolette con la lupinella in una maniera abbastanza continua ma in quantità molto diverse poi ci dicano gli allevatore non ci sono parasiti che danneggiano la lupinella perché insomma ora ora c'è stato quest'anno un problema grosso per l'erba medica che loro hanno lamentato un'infestazione con insetti fitofagi loro lo chiamano i pulcioni che li hanno distrutto tutto il primo taglio dell'erba medica invece con la lupinella questo problema non esiste non ci sono problemi poi per quando riguarda le proprietà benefiche di queste piante gli abbiamo chiesto ma che ne pensate di questa lupinella e dicano che prima di tutto piace tantissimo alle pecore certamente più dell'erba medica se stanno su un pascolo dove ci sono delle zone dove c'è la lupinella certamente subito vanno lì e prima di tutto mangiano lì sulla lupinella poi un altro vantaggio importante il fatto che gli animali come dicano loro non si confiano non c'è problemi di meteorismo come nel caso dell'erba medica che devono stare molto attenti poi dicono fa bene alle pecore sciuppate o fa tanto latte e il latte è più dolce e profuma o un altro aspetto diciamo di una proprietà benefica dal punto di vista salute ma sempre penso legato alle proprietà nutritivo si dà alle pecore dopo il parto ecco questo le conoscenze tradizionali che ancora gli allevatori di un certo età riportano e trasmettono a noi ora vediamo a quello che è la situazione parassitaria strongilica-strointestinale sul territorio evidentemente anche nella nostra zona i problemi ci sono non mi posso dire niente su aspetti di resistenza abbiamo appena iniziato qui con questi studi quindi dati molto preliminari qui una slide giusto su uno studi che abbiamo fatto nel 2018 dove abbiamo valutato problemi confrontando la situazione tenso stalle nelle strutture di emergenza con le stalle diciamo normale non tanneggiate e se ci fosse per vedere se ci sono delle problematiche particolari quindi adesso qui vi riporto quelli che erano le stalle controllo per farvi vedere che cosa è più o meno la panoramica la situazione parasitaria nei ovini sono qui illustrato sei allevamenti di interizzo diverso carne o latte gli animali in maggioranza che abbiamo valutate erano in lattazione e quindi andiamo subito su questo che sono i casturi intestinali vedete variano i dati uova per grammo di feci e stiamo intorno a una media di circa 300 uova per grammo nella zona i trattamenti antelmengici come lo ce lo riportano gli allevatori fanno di solito una volta all'anno più frequentemente di novembre ma qualche volta viene anche saltato un trattamento e poi si fa direttamente l'anno prossimo o magari anche poi di primavera prima che le mandano sul pascolo sempre per darvi un'idea su che cosa circola sul territorio anche per quanto riguarda i generi di parasiti strongi di castro intestinale qui anche qui dati molto preliminari di due zone Malfornaggi, Monte Cavallo e Sant'Ilaria dove vedete sono per esempio strongi, ostertaggia come vedete qua ogni tanto non siamo riusciti ad essere sicuri è uno all'altro quindi li abbiamo adesso per ora riportati come un insieme un insieme anche esofacostoma e ciapertia perché anche lì qualche individuo non ci sembrava così chiaro che sia e quindi potete vedere abbiamo una presenza molto diffuso di dei costroni lo seostertaggia in rispetto a esofacum e ciapertia e questo così sono più o meno le frequenze ora vi vorrei presentare la situazione di un io l'ho chiamata adesso un allevamento lupinella che è localizzato a Sant'Ilario mille metri in altitudine che stiamo seguendo già da un anno e quindi qui vedete la valutazione, il monitoraggio per strongi di castro intestinale che abbiamo fatto la prima volta era fine inverno diciamo l'anno scorso 2020 dove vedete c'è già un livello di uova per cramo di feci molto bassi in questo periodo l'allevatore ha fatto l'ultimo trattamento a 25% dei capi dell'allevamento perché evidentemente noi visto questo basso numero di infezioni abbiamo cercato di convincerla a non farlo e quindi lui l'ha fatto solo su un piccolo gruppo di animali, gli agnelli, le rimonte poi abbiamo continuato a valutare l'andamento del numero delle uova e vedete dopo la stagione di pascolo erano sempre molto basso e l'ultimo prelievo che abbiamo fatto qualche mese fa prima che gli animali sono andati sul pascolo siamo sempre molto basso e quindi ecco qui evidentemente uno comincia a chiedere ma potrebbe essere che in questo caso questa abitudine di alimentarsi in una maniera costante e cospicue sulla lupinella potrebbe dare un contributo evidentemente è precoce di concludere qualcosa noi continueremo con il monitoraggio questo è sicuro ma ecco qui vedete l'alimentazione di lupinella è sempre circa il 50% sia d'inverno perché lì sulla base di fieno l'allevatore dà circa il 50% lupinella ma anche nella stagione di pascolo sia sul pascolo naturale che contiene la lupinella ma anche sul pascolo dei campi di lupinella ora giusto quando ho preparato questa presentazione mi è venuto fuori questa curiosità vedete questo è sempre Sant'Ilaria il nostro allevamento di lupinella che in rispetto agli altri due c'è relativamente meno tricostronilus ostertaggia e quindi qui mi è venuto in mente anche i lavori scientifici che mostrano che l'impatto è maggiore della lupinella su il nematodicas dell'abomaso quindi ostertaggio il costronilus no è parzialmente abomaso è prima parte dell'intestino come mai? perché la concentrazione di lupinella in termini di canini condensati ma magari anche altri polifenoli antelmintici è maggiore a livello dell'abomaso e nella prima parte dell'intestino molto meno per quanto riguarda l'ultima parte dell'intestino e quindi magari questo cambio in proporzione più ciaperti al sofacostoma meno abomasali potrebbe essere un'altra indicazione che succede qualcosa in questo allevamento cerco di essere molto prudente ma insomma è curioso questa cosa lo seguiremo certamente noi abbiamo bisogno della chimica abbiamo bisogno di analizzare che cosa effettivamente come tanti canini condensati è presente nei nostri fieni di lupinella quindi abbiamo raccolti diversi campioni di diverse zone e stiamo analizzando che cosa c'è in questi questo per noi sarà poi anche la base per elaborare con gli allevatori dei schemi di alimentazione dosati quindi sapendo allora c'è magari 4 grammi per 100 grammi di fieno di canini condensati quindi bisogna di darli per due mesi per tre mesi eccetera eccetera ma importante è non avere soltanto il dato chimico ma anche un dato biologico e quindi da novembre noi abbiamo in laboratori un allevamento di strongeloides papilosus evidentemente evidentemente dei stati a vita libera che si coltivano molto facilmente sempre in materiale fecale che rinnoviamo periodicamente e quindi abbiamo messo su un test per valutare su questi stati tutti i stati larvi 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 adulti l'impatto di lupinello o magari altre molecole che vogliamo testare abbiamo scelto come parametro la mobilità dei larvi e dei adulti e quindi valutiamo in una conta fatto al microscopio utilizzando delle piastre a 96 pozzetti, come vedete, a pozzetto mobili e non mobile, dopo l'esposizione alla lupinella per tre ore di incubazione. Così, per dargli un'impressione su strongiloides come si presenta, i stadi a vita libera, vedete qua una femmina con le uova nell'utero in embriogenesi, vedete qua delle uova già che contengono la larva e l'uno, vedete qua accanto la coda di un maschio con specoli d'occhio e poi vedete qua gli stadi larvali più piccoli che sono come dimensioni intorno a 200 micrometri e gli adulti andiamo fra 500 ma anche fino a 1000 micrometri. C'è molto polinorfismo per quanto riguarda l'anima. Qui vedete l'esempio, una larva che sta per cambiare, diciamo cuticola, cioè sta in muta, vedete qua in questa immagine. Vi faccio subito vedere un esempio su che cosa fa la lupinella. La lupinella fa, si vede, vorrei quasi dire in maniera macroscopica, ma è sempre microscopico, vedete qua, questo qua è una larva esposta a lupinella in una bella concentrazione di 2 mg per ml che vuol dire che sono circa 100-200 microgrammi di tannini condensati e come vedete qua già dopo 15 minuti questa larva si gonfia, vedete qua la parte apicale ormai non è più affusolata ma tutto arrotondata, si vede la cuticola piena di pieghe, vedete qua, e si vede anche in alcuna situazione lo distacco della cuticola, qui avete il controllo PBS. Altri esempi, questo è il controllo di una parte apicale con l'esofago a doppio pulpo tipico per strondiloides papilosos, vedete qua la parte basale e qua la parte più mediana e questo doppio pulpo, è il canale alimentare dritto. Nel caso, dopo l'esposizione alla lupinella, vedete invece come questo canale assumono forma quasi a secca e zac, sembra che c'è una estensione delle membrane, un confiamento propriamente anche delle cellule intestinali e del tratto gastrointenzionale dell'esofago qua. Ora, questi effetti li vediamo anche a concentrazione più bassi di quelli che ho fatto vedere qua, cioè per ora pensiamo, scriviamo, siamo a una IC50 intorno a circa un milligrammo per ml di estratto, cioè di circa 100-200 microgrammi per ml di canini condensati. Questo è sempre circa circa, perché ora mi baso sempre sulla letteratura, non abbiamo ancora dei nostri campioni dei dati chimici. Quindi, ecco, sembra che gli effetti ci sono. Ora andiamo avanti a testare diversi campioni per capire se tutti i fieni da tutte le zone e soprattutto se non ci sono differenze fra l'attività antelmentica della nostrale in confronto a quella quarantina, perché se fosse così sarebbe molto vantaggiosa perché la quarantina, questa varietà, si coltiva bene anche in zone più basse, quindi si potrebbe, diciamo, in una maniera retitizio ampliare la coltivazione della coltivazione della lupinella e sfruttare le attività antelmentica per i ovini. Sono arrivata al termini, non ho partito dall'ora, spero che andava bene. Questa è la mia ultima slide dove ho immerso in un bel pascolo, in un bel campo della lupinella. Tutti che fanno parte del progetto, vedete tanti, vedete tanti ricercatori, anche studenti di veterinaria, vedete qua, ricercatori di diverse discipline, dalla chimica all'economia, agronomo, parasitologo e molti allevatori. Abbiamo iniziato ora con tre, che stanno parte, diciamo, da già un anno. Abbiamo ora ora identificato altri che già utilizzano lupinella almeno del 50%, ma magari possono anche aumentare. Sono coinvolte anche veterinari e veterinarie e quindi tutti insieme in un progetto che spero che non è un progetto, perché un progetto vuol dire sempre che c'è una fine, ma io mi auguro che un inizio senza fine, un'attività permanente di lavorare insieme per il controllo dei parasiti, per allevamenti, per allevamenti, per allevamenti, per allevamenti, per allevamenti, magari anche più reti inizio, insieme con tutti questi tre tipi di attori. Grazie. Grazie a te Annette. Dopo la tua presentazione ameremo tutti di più la lupinella, sicuramente. Devo dire che la tua presentazione, dopo le precedenti, mette in evidenza questo passaggio dalla ricerca all'azione, come hai detto tu fin dall'inizio. Quindi, diciamo, dal problema, affrontare il problema del mintico resistenza che stiamo riscontrando, come abbiamo visto prima nelle precedenti presentazioni, insomma, nei confronti appunto delle molecole di sintesi, affrontare questo aspetto sfruttando appunto ciò che pian piano si sta scoprendo relativamente all'efficacia appunto di questi, la lupinella, strati naturali o altro. Quindi, grazie ancora, molto interessante. Invito tutti a, alla fine, fare le domande appunto direttamente su Zoom, oppure a utilizzare appunto Facebook scrivendo la domanda. E, parlando di ricerca, a questo punto introduco un'amica e collega, la professoressa Stefania Perrucci e la dottoressa, insieme a dottoressa Michela Maestrini. Eccoci, buon pomeriggio, che si stanno occupando da anni ormai, Stefania lo direi tu da quanti anni, ma sono tanti, non è che io ti voglia dire che, diciamo, insomma, gli anni passano per tutti, ma l'attività, ecco, di valutazione in vitro, insomma, di proprietà antielmintiche, di estratti e principi attivi naturali, è da molto tempo il tuo campo di ricerca. Dal 1990. Dal 1990. Ecco, l'hai detto tu, eh, io non volevo, non volevo dirlo. No, in realtà non per l'attività antielmintica, ma io ho iniziato con l'attività di sostanze naturali sulle rogne, agli acari della rogne. Certo, certo, d'accordo. Io allora ti cedo la parola, non mi ricordo se ho detto l'afferenza, lo dico, Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Scienze Veterinarie. Grazie. E io vi ringrazio, ringrazio tutti per avermi invitata. Allora, la presentazione è questa qua. Perché non va? Ok, adesso, presentazione dall'inizio. Riuscite a vedere la presentazione? Sì, perfetto. Ok, allora io, noi, oggi pomeriggio, siamo qui per parlarvi della ricerca dell'attività in vitro, in condizioni di laboratorio, dell'attività antielmintica, distratti e principi attivi naturali. Perché si eseguono i test in vitro? I test in vitro sono stati in realtà sviluppati inizialmente per valutare l'antielmintico resistenza e quindi in qualche modo per confermare l'inefficacia dei trattamenti antielmintici osservata in vivo. In seguito però queste tecniche si sono dimostrate molto utili per valutare l'attività di composti la cui attività non è nota, siano essi naturali oppure composti di sintesi. E sono attualmente nel campo della ricerca, sono attualmente molto utilizzati come screening preliminare, proprio per selezionare composti potenzialmente, ad attività potenzialmente antielmintica, da valutare in seguito nelle prove in vivo. Quali sono i vantaggi dei test in vitro? Consentono una valutazione standardizzata di numerosi campioni e anche di concentrazioni diverse dello stesso principio o strato che si voglia valutare. Sono test riproducibili, sensibili, affidabili, ma sono molto meno costosi dei test in vivo, oltre ad essere, diciamo, comportare delle minori problematiche dal punto di vista proprio etico del lavorare sugli animali. E poi consentono di avere dei risultati sulla sostanza in esame, sia dal punto di vista qualitativo, ma anche quantitativo, in quanto utilizzando diverse concentrazioni di uno stesso composto, si valuta anche la dose effetto, il rapporto dose effetto in vitro. Come si selezionano i composti naturali? L'approccio storico è stato quello di rivolgersi alle conoscenze tramandate dalla medicina popolare, sia in campo umano che in campo veterinario. Però un altro approccio è quello di andare a valutare in un estratto, oppure valutando la composizione chimica di un principio puro, o dei principali componenti di un estratto, delle analogie della struttura chimica con sostanze adattività antilmintica nota. Un altro approccio molto più recente, molto più affascinante, almeno per quanto mi riguarda, è l'approccio della self-medication. E cioè, la self-medication si basa sul concetto che gli animali siano in grado di autocurarsi. E quindi si associa, diciamo, si osservano gli animali, come si comportano nel loro ambiente naturale e si va a vedere se animali parassitati da una certa tipologia di parassita si nutrono, scelgono, selezionano determinate piante. E se poi queste piante, poi in vivo, hanno un'efficacia. Quali sono i, diciamo, gli stadi del ciclo biologico di questi parassiti che noi utilizziamo nei testi in vitro? A grandi linee il ciclo degli strongi di gastrointestinali può essere distinto in una fase parassita che avviene nell'animale parassitato e una fase a vita libera che inizia con l'emissione delle uova con le feci degli animali parassitati nell'ambiente esterno. Nell'ambiente esterno le uova, all'interno dell'uovo, in condizioni idonee di temperatura e umidità, si sviluppa una larva che poi fuoriesce dall'uovo come larva di primo stadio, quindi passa allo stadio, diventa una larva di secondo stadio e quindi una larva di terzo stadio infestante. Sono proprio queste che sono responsabili poi dell'infestazione degli animali quando, perché vengono nella stragrande maggior parte dei casi ingerite con le erbe presenti su pascoli contaminati. Inoltre, queste larve di terzo stadio hanno la caratteristica di avere una doppia cuticola perché mantengono rivestimento esterno non solo, non hanno solo il loro, ma anche quello dello stadio precedente. Questo garantisce a queste larve una maggiore resistenza a insulti ambientali anche avversi. Però questa cuticola esterna viene persa, diciamo, nell'arco di un'ora dopo la loro ingestione da parte dell'animale, prima che queste larve vadano a insediarsi nello spessore della parete, degli organi dell'apparato gassointestinale che rappresentano la loro sede di localizzazione. E quindi, diciamo, le stadi utilizzate da testi in vitro sono rappresentate proprio dagli stadi ambientali ma anche dalle L3 che entrano negli animali. Quali sono i testi in vitro più, diciamo, noti? Il più antico, probabilmente il più utilizzato è il Legarch Test che è stato, diciamo, messo a punto per valutare la resistenza, l'esistenza di ceppi di parassiti resistenti ai farmaci benzimidazolici. L'Eggarch Test si basa, va a valutare, praticamente valuta la capacità di un composto di inibire lo sviluppo, la schiusa delle uova, quindi lo sviluppo della larva all'interno dell'uovo e poi la fuoriuscita della larva dall'uovo. Quindi l'Eggarch Test si parte da uova ottenute purificate, no? A partire da campioni fecali positivi e si mettono a contatto queste uova con la sostanza in esame, meglio se con concentrazioni scalari della sostanza in esame, e poi si confronta con i controlli non trattati e controlli trattati con un farmaco di riferimento che in questo caso deve essere necessariamente un farmaco benzimidazolico. Dopo 24-48 ore a temperatura edonea, si fa fare la lettura al microscopio e quindi se si osservano le uova inalterate rispetto al campione iniziale, quindi non c'è stato sviluppo, la sostanza in esame è risultata efficace, mentre invece non è efficace quando io osservo la presenza di una larva all'interno dell'uovo oppure di larva di primo stadio nei pozzetti che sto esaminando al microscopio. Un altro test invece, tutti gli altri test invece, utilizzano le larva. In questo test, che è il larva development test, l'efficacia di un composto si valuta sulla sua capacità di inibire lo sviluppo delle larve di primo stadio fino a larve di terzo stadio infestanti. Quindi si deve partire da larve di primo stadio, il concetto è sempre lo stesso nella preparazione delle piastre e da esaminare poi nel microscopio. il tempo è maggiore perché c'è un bisogno di dare il tempo a queste larve di poter trasformarsi in larve di terzo stadio. E quindi anche in questo caso il composto sarà efficace quando io osserverò la presenza di larve mutate di primo stadio nei miei campioni e invece non efficace quando la larva, invece le larve sono riuscite a maturare fino a larve di terzo stadio. Un altro test utilizza solo le larve di terzo stadio che hanno la caratteristica di essere estremamente mobili e il larva motility test va a valutare la capacità di un composto in esame di inibire il movimento di queste larve. Non si sa però, non si può sapere nel momento in cui si svolge l'analisi se questa assenza di movimento delle larve dipenda dalla morte delle larve o dalla paralisi delle larve stesse che può anche essere temporanea. In questo caso, quindi si parte da larve di terzo stadio che si mettono a contatto con la nostra sostanza in esame e come al solito si confronta con controlli non trattati e trattati con un farmaco di riferimento e qui bastano 24 ore, si fa la lettura e quindi la sostanza non è efficace quando nei pozzetti osservo la presenza di larve di terzo stadio vive e vitale e vitale invece è efficace quando io osservo la presenza di larve immobili e a volte anche alterate nella morfologia. Un altro test sempre basato sull'inibizione del movimento delle larve di terzo stadio e larve migration inhibition test. Questo test si basa sull'uso di un apparato di migrazione che è costituito da una serie di setacci messi uno dentro l'altro e in questo caso l'osservazione del contenitore di tutti questi setacci riusciranno ad attraversare i setacci solo e soltanto le larve immobili. Quindi anche in questo caso l'osservazione di, diciamo, le larve vengono mantenute per 48 ore a contatto con la sostanza in esame e quindi si fa la lettura. Quindi l'efficacia si evincerà dall'assenza di larve perché vuol dire che il composto in esame ne ha inibito a movimento quindi le larve non sono riuscite a migrare. Invece la presenza di larve di terzo stadio indicherà la non efficacia di una sostanza in esame. Infine, l'ultimo test in vitro, molto carino, ed è l'ultimo che è venuto, diciamo, è stato messo a punto, va sempre come target le larve di terzo stadio ma in questo caso si mima, diciamo, quello che succede nell'animale quando le larve vengono ingerite e quindi si va a vedere la capacità di una sostanza in esame di inibire la perdita della cuticola esterna delle larve infestanti che sono penetrate nell'animale. E in questo caso si mettono sempre le L3 a contatto con le sostanze in esame e paragonate con l'efficacia o la non efficacia con controlli trattati e non trattati con un farmaco di riferimento. bisogna stare molto attenti a fare sì che la sostanza in esame sia ben distribuita e ricopra bene il corpo delle larve, si mettono a contatto per tre ore, quindi si centrifuga e quindi le larve ottenute nei presenti del sedimento si mettono a contatto appunto con una sostanza che stimola le larve a perdere la cuticola esterna. Il composto risulterà efficace quando alla lettura al microscopio le larve avranno mantenuto la cuticola esterna perché vuol dire che il composto non è stato in grado di inibire questa perdita, mentre non è efficace quando questa cuticola esterna è stata persa e questo come abbiamo visto prima dalla presentazione di Annette determina anche un'alterazione morfologica visibilmente visibile e molto ben visibile al microscopio delle larve. Adesso, scusa. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Io invece quindi vi parlerò della valutazione in vitro quindi a livello di laboratorio di sostanze naturali sia come principi puri che estratti di piante appartenenti al genere medicago sativa e di un estratto, un principio apuro invece della pianta, della liquidizia. Quindi allora lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare l'attività antielmintica delle saponine appartenenti a diverse specie del genere medicago in particolare la medicago sativa coltivare chipe medicago polimorfa coltivare sianglona che santiago ma anche delle prosapogenine in questo caso soltanto della medicago sativa coltivare chipe le prosapogenine non sono altro che un derivato chimico delle saponine la medicago sativa è comunemente chiamata erba medica che è poi uno dei più comuni foraggi nei nostri animali è stata testata anche un estratto secco acquoso di radice di liquidizia e l'acido glicerretico l'acido glicerretico invece è così come le saponine è un composto puro che deriva dalla trasformazione della glicerrezina anche se è una saponina che è il principale costituente della radice di liquidizia quindi andiamo a vedere in particolare che cosa sono le sapoline sono dei metaboliti secondari delle piante quindi non sono altro appunto sono proprio prodotte dalle piante prendono il loro nome dalla saponaria officinalis che in passato veniva utilizzata per il lavaggio della lana quindi vengono utilizzate o meglio prodotte dalle piante a scopo di difesa contro i patogeni in particolare contro i funghi possono essere distinte in saponine a nucleo triterpenico e a nucleo steroideo e hanno differenti attività biologiche come antinfiammatoria ma anche cicatrizzante antiedemigeno quindi allora noi per poter mettere a punto i nostri test in vitro abbiamo dovuto ovviamente estrapolare sia le uova che le larve di primo stadio che le larve di terzo stadio tutti questi quindi stadi parassitari sono stati ottenuti a partire da campioni fecali freschi di animali naturalmente infestati quindi le saponine sono state testate esclusivamente mediante l'aggac test di cui vi ha parlato prima la professoressa Perrucci noi abbiamo quindi messo in contatto diverse concentrazioni di ciascuna saponina o presapogenina con le nostre uova purificate di strongini gastrointestinali abbiamo atteso 48 ore che è il tempo necessario affinché la larva L1 si schiuda dall'uovo e siamo quindi andate a controllare quante uova e quante larve erano presenti nei pozzetti quindi questi sono i nostri risultati e salta subito all'occhio come le percentuali di saponine da noi testate erano davvero molto basse quindi questo va a evidenziare diciamo la loro efficacia potete vedere infatti che già lo 0,5% in particolare sia nella Medicago Polimorfia sia a coltivare Santiago che Anglona hanno ottenuto dei risultati sicuramente paragonabili a quello del farmaco di riferimento che è stato il tiabendazolo se inoltre anche paragonati con i controlli invece non trattati dei risultati diciamo un po' meno soddisfacenti sono invece stati raggiunti come potete vedere o scusate dalle prosapogenine di Medicago Sativa quindi allora come possono effettivamente poi le saponine e le prosapogenine avere un effetto sulle uova o sulle larve dunque si suppone che se siano in grado di andare a penetrare attraverso il guscio dell'uovo alterandone quindi l'equilibrio osmotico della membrana e impedendo così quindi il normale sviluppo della larva e impedendo quindi poi anche ovviamente la successiva schiusa delle uova è stato inoltre anche ipotizzato che se siano in grado di interferire con le vie enzimatiche che sono coinvolte nello sviluppo larvale quindi i dati ottenuti nel nostro studio evidenziano come effettivamente tutte le saponine appartenenti ai diversi specie del genere Medicago abbiano avuto delle ottime attività antilmintiche indipendentemente dalla loro condizione scusate dalla loro composizione chimica anche se tuttavia le prosapogenine si sono risultate appunto un po' meno efficaci e cosa direi riguardo alla loro tossicità dunque se ingerite in grandi quantità sicuramente possono risultare tossiche così anche come i tannini tuttavia è stato dimostrato che se assunte in concentrazioni moderate possono non soltanto esplicare degli effetti antiparassitari ma anche migliorare quindi gli effetti nutrizionali quindi l'efficacia che abbiamo osservato in vitro delle saponine e delle prosapogenine diciamo incoraggia successivi studi per diciamo valutare se i risultati ottenuti in condizioni di laboratorio si riflettano poi effettivamente anche in delle condizioni di campo quindi nella realtà che poi è anche un po' il nostro scopo quindi andiamo avanti e passiamo all'estratto accoso della radice di liquirizia e all'acido gliceretico quindi la liquirizia ha veramente tantissime proprietà biologiche fra quali antibatteriche, antivirali ma anche antielmintiche che sono già state dimostrate nei confronti dello schistosoma manzoni e di emoncus contortus e per quanto riguarda invece l'acido gliceretico come avevo già accennato questo è il componente essenziale della liquirizia che deriva da una trasformazione della glicerizzina che è una saponina che compone appunto la radice di liquirizia e questa trasformazione da glicerizzina ad acido gliceretico viene attuata a livello intestinale quindi allora abbiamo testato queste due sostanze mediante tre test uno leg hatch test che abbiamo già visto in precedenza poi tramite larval development test che vi ricordo brevemente essere un test che serve per valutare la sostanza nella sua capacità di inibire lo sviluppo larvale dal primo al terzo stadio larvale che è quello poi intestante quindi pericoloso per gli animali e tramite il larval migration inhibition test che invece valuta la capacità della sostanza di inibire la migrazione larvale tramite un filtro abbiamo inoltre eseguito anche un test di citotossicità che significa che siamo andati a valutare se il nostro estratto acquoso di liquirizia fosse o meno tossico per le cellule per fare questo abbiamo utilizzato delle cellule appartenenti a una linea cellulare di bovino quindi qua ci sono i nostri risultati e abbiamo utilizzato delle concentrazioni piuttosto elevate però poi siamo andati a scendere per entrambe le sostanze sono state testate 30, 10, 5, 1 e 0,5 mg per ml e come si può evincere dai risultati da questo schema l'acido gliceretico ha avuto un risultato diciamo più è stato più efficace rispetto all'estratto secco di radice di liquirizia se comparato ai campioni non trattati diciamo quindi questi invece sono i risultati dell'arval development test e qua salta all'occhio come già a 5 mg su ml l'acido gliceretico abbia raggiunto dei risultati sicuramente paragonabili a quelli del farmaco di riferimento sempre il tabendazolo mentre la stessa cosa non si può dire dell'estratto di liquirizia e passiamo quindi all'arval migration inhibition test anche in questo caso l'acido gliceretico quindi un composto puro ha superato si può dire di gran lunga l'inibizione della migrazione larvale rispetto appunto all'estratto secco della radice di liquirizia quando paragonato ai controlli trattati e non trattati quindi per quanto riguarda i risultati di citotossicità abbiamo osservato che alla concentrazione maggiore dell'estratto di liquirizia ovvero a 30 mg su ml quindi è una concentrazione molto elevata il 76,5% delle cellule era ancora viva e vegeta quindi si può dire che effettivamente questo composto non ha una spiccata citotossicità ed è anzi quindi piuttosto sicuro per quanto riguarda la tossicità dell'acido gliceretico esso è considerato ci siamo basati sulla letteratura precedente ed esso è considerato citotossico esclusivamente ad altre concentrazioni ad esempio viene utilizzato come aromatizzante nei mangini ed è considerato quindi safe sicuro fino ad un mg per kg di mangime completo in tutte le specie domestiche quindi la più alta concentrazione di glicilizza glabra è stata in grado di inibire significativamente quindi maggiore del 60% di inibizione la schiusa delle uova degli strongili gastrointestinali tuttavia sembra aver avuto un effetto inferiore rispetto sulle larve rispetto a quanto dimostrato dall'acido gliceretico ma se consideriamo che la il principio diciamo puro principale della della radice di licurizia è appunto l'acido gliceretico possiamo quindi dedurre che l'attività della licurizia sia per lo più diciamo imputabile al suo contenuto in acido gliceretico inoltre è molto interessante osservare che l'acido gliceretico sia in grado di andare a diciamo rafforzare l'integrità e la coesione delle cellule intestinali riducendo così il danno ossidativo e proteolitico operato dai nematodi in questa sede intestinale quindi da questo si può supporre che l'eventuale utilizzo in vivo di questo acido possa favorire anche diciamo o meglio contrastare tutte quelle che sono poi le cause gli effetti patogeni di questi nematodi a livello intestinale in uno studio piuttosto recente è stato dimostrato inoltre che l'integrazione alimentare di glicerizzaglabra quindi della della licurizia abbia avuto dei risultati positivi sulla latte vaccino migliorandone la la sapidità ma anche diminuendo l'ossidazione dei lipidi nonché migliorandone anche il colore quindi questo diciamo che è un punto ancora più in favore per l'utilizzo di questa della licurizia eventualmente in vivo un altro studio molto recente e anche questo molto interessante ha dimostrato come l'integrazione nella dieta del 4,5% della sostanza secca di un estratto etanolico di licurizia sembra aver avuto nessun impatto negativo sulla attività luminale delle pecore ma anzi ha migliorato il livello delle loro immunoglobuline a livello ematico e lo stato antiossidante quindi in conclusione l'estratto acquoso di licurizia di glicerizia glabra e l'acido glicerretico si sono dimostrati in condizioni di laboratorio sicuramente efficaci nei confronti degli stronzi gastrointestinali tanto nei confronti delle uova quanto nei confronti delle larve e quindi questo incoraggia appunto ad approfondire eventuali applicazioni in vivo io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio anche il professor Molento il dottor Oste e il dottor Aldo Tava per la collaborazione e per gli insegnamenti che ci hanno dato senza i quali tutto questo lavoro non sarebbe stato possibile grazie 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 a Michela e a Stefania per questa relazione davvero illuminante sui test in vitro e su queste proprie pratiche utilizzando questi principi naturali e quindi adesso do la parola siamo un po' fuori dai tempi a Antonio Bosco e Giuseppe Mangieri e Antonio Calamo che stanno in un'azienda e in questa azienda quindi vi faranno vedere quali sono le best practice per il monitoraggio dell'antidimentico d'esistenza vai Antonio salve buon pomeriggio siamo in un allevamento vino nella provincia di Salerno nel comune di Altavilla Silentina in un allevamento vino del signor Salvatore Morena il quale ringraziamo per la sua disponibilità e in questi pochi minuti purtroppo che ci restano insieme all'ozonomo dell'allevamento Tobia Morena insieme andremo a valutare quale sono le best practice o meglio le procedure corrette da attuare per valutare l'efficacia antelmintica in vivo e per contestualizzandole all'interno di un di procedure di trattamento la prima cosa quando entriamo in allevamento è buona prassi compilare una scheda aziendale insieme all'allevatore quindi prima di partire con gli animali facciamo compilare una scheda aziendale che ormai da anni l'abbiamo sviluppata con il Cremupar dove in effetti inseriamo tutti i dati dell'allevamento i numeri di capi presenti in allevamento di visi per categorie questo aspetto lo andremo poi a valutare è indispensabile poi per effettuare un trattamento per calcolare anche il numero di capi da trattare quali sono le tipologie aziendali e soprattutto quali sono i trattamenti con quale frequenza quali molecole hanno utilizzato nel corso degli anni gli allevatori per poter poi anche valutare la scelta di una molecola antelmintica da dover testare ok prima di tutto quindi andiamo a effettuare uno screening aziendale per valutare se all'interno dell'allevamento siano presenti infezioni da nematodi gastrointestinali quindi per atturare l'allevamento laddove abbiamo un quadro parassitologico favorevole quindi con alte cariche di nematodi gastrointestinali che sono i parassiti target per la valutazione dell'antelmintica resistenza in vivo andiamo a identificare i soggetti da arruolare in una eventuale prova prima di tutto andiamo a scrinare nell'allevamento almeno 30-40 soggetti per valutare quindi quali sono i soggetti che eliminano una maggiore quantità di uova quindi andiamo principalmente a selezionare i soggetti giovani proprio perché per quanto riguarda gli ovini sono quelli che hanno una maggiore eliminazione delle uova proprio perché i test in vivo si basano sui test di riduzione della conta delle uova fecali quindi test che confrontano il numero delle uova nel pre con il post trattamento quindi andiamo ad effettuare prima di tutto il campionamento quindi una volta selezionati o meglio scrinati 30-40 soggetti selezioniamo almeno un minimo di 10-15 animali questo è un numero minimo che con la nostra esperienza anche nell'ambito di una cost action europea il COMBAR di cui ne ha parlato prima il dottor Chalier è il numero minimo per poter effettuare una prova di efficacia in vivo e la somma poi delle uova che vengono eliminate da questi soggetti deve almeno essere di 200 UPG quindi va da sé che maggiore è il numero dei soggetti che arruolate nella prova maggiore è l'affidabilità del test l'aspetto molto importante quando andate poi a selezionare il soggetto i soggetti devono essere soggetti sani non devono presentare disturbi gastrointestinali perché eventuali diarree possono ridurre l'assorbimento intestinale del farmaco quindi soprattutto quando andiamo a valutare l'efficacia di soluzioni sospensioni orali e aspetto fondamentale che in questi ultimi anni il gruppo controllo non viene più considerato ma consideriamo solo un gruppo di animali trattati considerando l'UPG nel pre e nel post trattamento quindi quando effettuiamo un trattamento un prelievo di feci logicamente dobbiamo fare in modo da prelevare un gran quantitativo di feci quante più ne possiamo possibilmente tutto il campione presente nell'ampolla rettale e utilizziamo stesso il guanto come contenitore in questo modo lo andiamo a identificare identifichiamo anche il soggetto a cui appartiene il campione e identifichiamo il campione in questo caso con un numero progressivo in questo caso è il numero uno aspetto fondamentale è anche la conservazione del campione quindi oltre ad effettuare le buone pratiche di trattamento una buona riuscita di un test in vivo parte dal campionamento quindi effettuare un campionamento corretto direttamente dall'ampolla rettale una buona quantità e conservarlo fino al nostro arrivo in laboratorio un metodo che abbiamo ormai validato da diversi anni è il metodo sottovuoto quindi esistono questi kit portatili nati per gli alimenti dove una volta posto sottovuoto lo possiamo effettuare il sottovuoto anche direttamente in campo con queste macchine portatili in questo modo e trasportare il campione e trasportare il campione in laboratorio possibilmente siccome effettuiamo dei test in vivo è necessario effettuare le coproculture quindi i campioni prima dell'analisi prima di effettuare la coprocultura non devono essere refrigerate proprio perché la refrigerazione può alterare quello che è lo sviluppo delle uova di conseguenza va a inficiare il risultato delle coproculture quindi questi campioni arriveranno nel laboratorio e da ogni campione viene prelevata una piccola aliquota che verrà inserita nel pool dell'ecoprocultura ok dopo di ciò partiamo con il trattamento del soggetto prendiamo un altro soggetto dove effettuiamo le buone pratiche di trattamento prima di iniziare a trattare i soggetti è buona norma come già anticipato il professore Scala di valutare se il farmaco non è sotto scadenza se è stato conservato in modo adeguato e scriverci il numero di lotto del farmaco in modo che nel caso in cui ci dovesse essere una reazione avversa una riduzione ed efficacia dobbiamo l'obbligo come medici veterinari di comunicare al centro di farmacovigilanza di pertinenza territoriale l'eventuale riduzione di efficacia o l'eventuale reazione avversa quindi come trattiamo gli animali se si parla di una prova in vivo conviene utilizzare queste siringhe graduate con un ugello tale da simulare proprio un dosatore orale e in base al peso si somministra il farmaco quindi la quantità di farmaco è in funzione al peso del singolo soggetto laddove andiamo effettuare una prova sperimentale ma laddove andiamo effettuare un trattamento antelmintico di routine su un greggio logicamente non possiamo utilizzare una siringa graduata ma utilizzeremo un dosatore come questo anche questo graduato in modo da somministrare in modo rapido l'antelmintico ma quanto farmaco somministrare logicamente in base al peso non si possono pesare tutti gli animali quindi facciamo una semplice divisione del greggio il greggio lo dividiamo in tre categorie in base poi alle stazie al peso in pecore adulte in rimonte e in montoni e andiamo a pesare i soggetti più grandi più pesanti e tariamo su quei pesi la quantità di farmaco da somministrare in questo modo non sottodosiamo il farmaco che è una condizione iniziale predisponente a una riduzione di efficacia a fenomeni di resistenza laddove ci troviamo invece di fronte alle capre il dosaggio non è lo stesso assolutamente ma aumenta di una volta e mezza in più o il doppio rispetto al dosaggio degli ovini quindi quando effettuiamo un trattamento dobbiamo essere anche sicuri che gli animali non abbiano assunto cibo nell'immediato quindi si consiglia il digiuno di almeno 12 ore quindi consigliamo di effettuare un trattamento antelmintico al mattino in modo che hanno avuto un digiuno notturno e aumentare l'assorbimento del farmaco cosa molto importante è anche il volume che andiamo a somministrare dell'antelmintico perché un antelmintico noi parliamo di ruminanti possiamo attivare la doccia esofagea laddove somministriamo un volume superiore ai 30 ml di conseguenza molti antelmintici hanno bisogno di passare nel rumine per attivarsi come ad esempio i probbenzimilazolici il febantel l'anetobimina e di conseguenza non attivandosi non hanno nessun tipo di efficacia quindi trattare facciamo dobbiamo utilizzare in questo caso facciamo un trattamento simuliamo un trattamento di routine in questo vino e come si effettua il trattamento prima di tutto è molto importante anche il contenimento questo contenimento è sbagliato perché si va ad occludere quello che è l'esofago quindi il primo tratto gastrointestinale e quindi va a impedire la deglutizione del soggetto quindi l'animale non deve essere contenuto dal collo ma deve essere contenuto come lo contiene Tobia l'operatore che somministra basta contenerlo da sotto al mento si entra con l'ugello lateralmente si fa in modo che tutto l'ugello sia nel cavo orale e si somministra delicatamente in questo modo l'animale non sputa non elimina il farmaco dal cavo orale quindi l'assunto tal quale quanto è stata la nostra il nostro dosaggio e soprattutto perché entrando tutto nel cavo orale l'estremità dell'ugello si trova dietro alla base della lingua determinando simulando la deglutizione del soggetto dopo il trattamento che cosa bisogna valutare come abbiamo come appena fatto aspettare qualche secondo per l'animale aspettiamo e la cosa importante è che quando somministriamo una sospensione come vedete dove c'è una parte solida e una parte liquida è indispensabile agitare la nostra tanica è importante agitarla all'inizio del trattamento ma anche durante il corso del trattamento quindi ogni tre quattro vini trattati andrebbe agitate in questo modo in modo da somministrare una soluzione omogenea nel caso in cui ci sono una sospensione nel caso in cui ci sono soluzioni non bisogna agitare al contrario quindi proprio perché le soluzioni agitandole si possono formare delle bolle d'aria e stesso la pesca del dosatore potrebbe aspirare aria e non somministriamo tutta la quantità di farmaco che dovremmo somministrare dopo che abbiamo effettuato tutte queste procedure in realtà possiamo realmente valutare se c'è o meno una ridotta efficacia quindi cercare di correlare questa ridotta efficacia con dei fenomeni di resistenza logicamente l'hanno già fatti vedere prima i relatori precedenti laddove trattiamo dei farmaci i tempi del post trattamento sono diversi nel senso che se andiamo a testare il levamisolo ad esempio il prelevo post trattamento va effettuato dopo 7 10 giorni nel caso dei benzimidazolici va trattato dopo 10 14 giorni e per i lattoni macrociclici possiamo andare dai 14 ai 21 giorni quindi in base al farmaco che noi andiamo a testare logicamente varia anche il prelievo post trattamento quindi laddove abbiamo una ridotta efficacia che si manifesta con una riduzione di quella che è la conta la riduzione della conta delle uova del 95% e limiti inferiori degli intervalli di confidenza sono inferiori al 90% possiamo parlare di antelmindico resistenza anche se da quella che è la nostra esperienza e come già ha illustrato anche il professore Scala è indispensabile ripetere un'ulteriore prova in vivo noi l'abbiamo fatto anche in passato utilizzando eventualmente molecole diverse ma che appartengono alla stessa classe farmacologica per valutare se anche in quel caso c'è una ridotta efficacia successivamente passiamo ai testi in vitro per verificare validare la ridotta efficacia io ho finito spero di essere stato nei tempi carissimo Antonio assolutamente è tutto molto bello e molto chiaro assolutamente quindi un piacevolissimo collegamento che fa capire a tutti indipendentemente dal fatto che sia un addetto a lavori o meno quanto sia importante la collaborazione tra medico veterinario e l'allevatore e questo per trasferire le competenze del medico veterinario ovviamente la realizzazione di corrette procedure e nelle appunto best practice nelle buone pratiche quindi grazie a voi interrompo Tony io vorrei ringraziare anche l'allevatore Tobia Morena che davvero è stato fantastico in questa live che è stata una sperimentazione anche per questi webinar della solita assolutamente e mi sembra ben riuscita mi permetto di dire come sperimentazione quindi grazie veramente agli allevatori anche da parte mia scusate se posso volevo ringraziare anche Antonio Calamo per il sostegno tecnico è sempre impeccabile solo grazie a lui se la diretta è riuscita nel migliore dei modi grazie Antonio grazie anche da parte nostra allora allora io non vorrei più rubare tempo perché siamo un po' lunghi per cui apro la discussione non so se sono arrivate delle domande attraverso Facebook o comunque lascio ovviamente a tutti i colleghi amici collegati in Zoom la possibilità di porre domande ai relatori che ci hanno deliziato questo pomeriggio buonasera se posso salutare tutti buonasera professor Cringoli saluto tutti ciao Laura ciao Ponte Barone ciao Mario e intanto complimenti e vi ringrazio per questo bel pomeriggio dedicato ad animali da reddito dedicato agli ovini molto interessante è molto importante perché rivolgere l'attenzione a questo settore è particolarmente significativo perché è un mondo dove la parassitologia ha investito si ma deve continuare ad investire di più perché oltre all'aspetto diciamo scientifico c'è anche tutto un aspetto diciamo di sviluppo zootecnico che questo che insomma che questo nostro interesse deve naturalmente proporre bravi tutti molto interessante anche bravo Bosco che si scementa anche in queste live in situazioni un po diciamo così non non rodate precedentemente molto bene bravo volevo chiedere al professore Scali intanto complimenti per la sua panoramica chi ha fatto che è evidenziato anche molto bene come c'è da recuperare il rapporto parassitologico col medico veterinario rispetto all'allevatore perché perché l'allevatore continua a fare i trattamenti seguendo tradizioni e stagionalità è qualcosa che noi dobbiamo certamente recuperare interessante anche il discorso di utilizzare il BCS come elemento di discriminazione però qui io vorrei fare all'amico Tonino una domanda quando diciamo lui valuta questo poi come dire indicatore per animare trattare animale non trattare chiaramente lui si riferisce sempre ai gastrointestinali però come giustamente anche lui ha detto che in una situazione di grece nelle nostre zone c'è anche di crocelium e ci sono anche altri parassiti che interessano gli animali il dosaggio di benzimidazolici in questo caso targato per i gastrointestinali lo suggerisce pro gastrointestinali o comprensivo anche di di crocelium o meglio la domanda suggerisce un dosaggio doppio o un dosaggio solo per gastrointestinali questo è e poi volevo chiedere ad Annette bella questa cosa è la lupinella interessante significativo anche il fatto che lei ha trovato che i stronci liabomasali sono più come dire accolpiti o più sono più diciamo condizionati dall'assunzione della lupinella mentre non lo sono quelli che si localizzano nel tratto posteriore Annette credi che credi che sia dovuto più a un discorso di transito intestinale oppure sia dovuto che cosa dice la letteratura questi tannini e condensati sono più disponibili a livello di abomaso oppure c'è qualcosa che ancora dobbiamo come dire studiare grazie chi chi parla prima Antonio no sono un cavaliere Annette allora sì ci sono dei studi anche già fatti sulla quantità di tannini condensati disponibile a livello intestinale abomaso e poi lungo l'intestinale fino alla parte terminale e anche le quantità ancora presente nelle feci e quindi si sa che circa un milligrammo per ml è estraibile dalla digestione di quello che sono i polifenoli in un fieno di lupinella e cioè possiamo stimare che vengono in contatto in vivo a livello dell'abomaso circa mezzo milligrammo di tannini condensati con per esempio ospertaggia ma poi alla fine se andiamo lungo l'intestino questa la quantità di tannini condensati diminuisce più dell'80% quindi come tu hai già fatto l'ipotesi è un problema di concentrazione soprattutto non un problema di attività specie specifico grazie allora immagino la tua domanda nei miei confronti è ovviamente provocatoria da vecchio marpione quale sei suppongo che l'hai fatta per confrontarci su un problema molto importante c'è un momento in cui un veterinario entra in azienda e va a fare un trattamento antiparassitario ovviamente dovrebbe ripeto dovrebbe assolutamente conoscere quella che è la situazione parassitologica del greggio dove va a lavorare e non solo di quelle che sono le parassitosi come dire che può riscontrare coprologicamente ma dovrebbe avere l'opportunità di conoscere anche situazioni legate a metacestodosi e a quant'altro cioè deve avere un quadro completo altrimenti il trattamento parassitario fatto così non ha senso non ha senso perché perché come giustamente tu provocatoriamente hai detto vai a incappare puoi andare a incappare in situazioni abbastanza difficili che vanno assolutamente monitorate perché se io faccio ovviamente lavoro in un'azienda so qual è la situazione mi trovo di fronte esclusivamente a una strongilosi gastrointestinali in quel momento ovvio che agisco con un benzimidazolico alla dose che va bene per quanto riguarda gli strongili gastrointestinali però sappiamo anche che la pecora è un mosaico di parassiti dunque raramente trovi soltanto soltanto quello che trovi ecco è là che subentra diciamo l'azione del veterinario ed è là che dobbiamo fare i veterinari e non fare gli pseudo allevatori mi riferisco per esempio a un fatto come quello che ho chiamato che hai chiamato in causa tu per la dicrociliosi cosa faccio io quando mi trovo intanto a fare un intervento antiparassitario con una diagnosi che è quello che noi ci siamo anche stancati di dirlo però purtroppo non è entrato ancora nella prassi nella prassi nella prassi comune l'altra volta mi sembra durante l'incontro della SISVET per quanto riguarda i cavalli abbiamo fatto riferimento proprio in funzione dell'antimitico resistenza a paesi che ormai hanno o come dire richiedono la certificazione per quanto riguarda un trattamento antiparassitario e se non c'è una certificazione che metta in evidenza una determinata carica parassitaria il trattamento antiparassitario non si fa ovvio che devi avere come dicevo prima una situazione sotto controllo cioè tu devi sapere ecco perché anche classic farm eccetera stanno andando un po' in quella in quella direzione quella cioè di fare una fotografia totale di quello che è l'allevamento poi dopodiché io mi trovo di fronte per esempio a che so io facciamo un esempio pratico così possiamo ragionare tutti insieme spero di non rubarvi troppo tempo un greggio dove ci sono 450 upg 600 upg di uova di nematode gastrointestinali 45 upg di crocelium dendriticum e qualche rara larva di guillerius capillaris sto cercando di fare una situazione tutto sommato abbastanza abbastanza comune ecco in una situazione di questo tipo tu dicevi devi usare hai a disposizione un benzimidazolico che può essere un probenzimidazolico o un albenzazolico cosa facciamo? è questo che mi chiedevi? allora io risponderei in base a quello che è la mia esperienza in base a quello che anche i miei vecchi professori mi hanno insegnato mi trovo di fronte a una situazione di rischio zootecnico definiamo tale per quanto riguarda gli strongili gastrointestinali non mi trovo di fronte c'è un rischio zootecnico per quanto riguarda la dicrociliosi perché ho delle cariche parassitarie tutto sommato contenute e anche le larve dei broncopolmonari non sono a un numero abbastanza elevato però se io so che sto usando quella classe di antilmintico so anche come stavo accennando poc'anzi che con un 3,8 mg me la posso cavare bene per distruggire i gastrointestinali ma sto iniziando probabilmente a fare del danno per quanto riguarda invece il dicrocilium e le larve dei broncopolmonari per cui io il dosaggio lo farei per quanto riguarda il dicrocilium e per quanto riguarda anche perché se tu vai a vedere per esempio l'albendazolo l'albendazolo ti dice che devi raddoppiare anche nel caso delle larve di protostrongilus o di altre larve delle broncopolmonari ora tutto questo ragionamento perché lo sto facendo mi scuso non voglio tediare nessuno voglio dire che la parte di malattie parassitari la parte di terapia non è una parte che si può lasciare all'allevatorio perché se noi nobilitiamo tra virgolette il discorso terapeutico con tutte queste cognizioni che sono cognizioni di biologia cognizioni di farmacologia condizioni anche di conoscere quale farmaco in quel momento usare l'indagine che abbiamo fatto noi ci ha fatto vedere che se io devo usare l'ivermectina per gli strongi di gastrointestinali non scelgo l'ivermectina sottocute perché ormai ho capito che l'ivermectina sottocute non mi funziona bene ma uso quella per os e sto attento anche a come uso quella per os e sto attento anche a quanto funziona visto che sono in una situazione borderline e mi ricontrollo dopo 14 giorni quel trattamento antilmitico come ha funzionato mi taccio perché non voglio occupare altro tempo e annoiare chi ci ascolta questo è questo condivido pienamente questa è la linea che dobbiamo seguire dobbiamo insistere nella divulgazione nel coinvolgimento dei medici questa è un'attività di medico veterinario non di allevatore proprio per tutte queste cose che stai dicendo è chiaro come anche diceva all'inizio il nostro amico del belgio che prima si fa una diagnosi e poi si fa diciamo una terapia la diagnosi con una certificazione è sicuramente la strada che tu dici stiamo dicendo però non ci dobbiamo stancare a diciamo inculcare questa questa questo perché la malattia come tutte le malattie in medicina c'è un dog ma si fa la diagnosi poi si fa una terapia non dobbiamo sminuirlo noi stesso questo esatto non dobbiamo sminuire perché questo generalizzare il tutto rende la parassitologia e nel caso specifico il trattamento antiparassitario negli ovini un'operazione oseri dire banale non è banale non è assolutamente banale Bosco ha detto delle cose che magari molti di noi sanno molti di noi fanno però ripetere queste situazioni renderle importanti perché lo sono importanti non sono banalità in questo momento in cui la farmacoresistenza sta prendendo sta prendendo piede e poi da accademici questa volta da accademici quello che dico è rendiamo la parte di malattie parassitarie veramente professionalizzante nel senso che tutte queste analisi tutte queste possibili situazioni che ci troviamo di fronte ad affrontare devono essere ben chiare anche al neolaureato è vero poi si fa tutta l'esperienza che vuoi però partire da questo vuol dire che si impone in ambito aziendale in maniera molto più decisa molto più competitiva molto più professionale che vedrai che anche i parassiti poi diventano una cosa importante quando i risultati ci danno ragione grazie senatore grazie a entrambi prof scala e cringoli per questo interessante confronto è piacevole allora ci sono altre domande se no ho io una domanda per il nostro ospite joan charlie ma aspettiamo un attimo il diritto di fare la domanda è prima della platea poi anche io ho una domanda per johannes ma ok ok posso dire che la facebook ho una domanda per te che sono carri attraverso un lavoro con i miei europei colleghi per combattare anti-minitic resistenza And is your working group also thinking about some strategies to improve the possibility that your suggestions in the control to combat anti-media resistance are understood, implemented and in particular applied in the field by the farmers, by the breeders? We are trying to, but yes. So this is definitely still a big challenge. We've been working on this topic, let's say, for years, maybe for decades. We know, we think we know what are good practices or at least the general procedures, but still we see limited uptake in the field in campo. That's also why, and this is quite recently, only since a few years, we are trying to understand really the behavior and the reasoning of all the actors. So research so far has focused on the farmers, but we need also to see on the veterinarians and of other stakeholders, organizations, ourselves, how are we all looking? Because everybody looks at the problem from a different way. You have one sheep, but one sheep for a farmer, he wants to see a productive sheep. He's thinking, for us as scientists, we want to see the sheep without parasites. For other organizations, they are thinking of other things. So everybody has his own image, and we need, of course, to find the common divider. So, yes, we are working on that, but still it's, let's say we are scientists and we are approaching it from a scientific way. Still, there is a lot of work to do just to work on it as a common problem with everybody, not just scientists saying this and this and this is the good approach. No, we also should listen to the other people. How are they looking to the problem? And I think this is the next step because we are doing research. We know it's a problem. We know we need to change practices, but how can we do it? So, therefore, it's really the next step. And I think this is what we are trying also to say to the, let's say, to the European Commission of, okay, we need this kind of approach. We need this kind of project to move forward from here. It will be really a challenge, the real challenge, not only in your country, but also in all European countries. Yeah, thank you very much. I give you the floor, Laura. Say, Johannes. Yes. Yeah, you mentioned the importance of the different stakeholders and policy makers, but in your experience, what is the role of EIMA and also the perception of EIMA regarding antelmintic resistance? Maybe it's a bit, they are a bit biased towards antibiotic resistance. What is the perception on antelmintic resistance? Well, yeah, it's a difficult question because, I mean, I don't work at EIMA. We only have been now since, yes, the last years, they have been very supportive in our action of COMBAR. So, they have attended the meeting, they have participated in the discussions, and it's clearly, for them, it's an important topic, antelmintic resistance. So, they are, they have produced a general guideline document on, okay, this is where they involved different scientists, like, this is the situation, and this is the, these are some strategies how we can address resistance. But I know, now they are thinking on it, and let's say, if a company wants to register a new product, they will, well, they will have to, to provide more data on, like, not only showing, okay, it is, this drug is working, as before, but what, 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 regarding with resistance. So, they have to provide more data that also, in the light of resistance, the, the drugs will be sustainably used, and, and will, will even work. Yes, so, more, more, more higher demands, more data needed, and also more recommendations on how, if you have a new drug, how should it be used sustainably? What are the recommendations, how should it be used? So, there, 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 there will be more, more pressure and more regulations, likely. And, are there new drugs in the pipeline of pharmaceutical industries? Yeah, I think you're asking the, 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 um, the wrong person, but it's clear that, um, antelmintics, it stays an important field for the companies, because, uh, it is important, it is, for them, uh, it, it remains an important product, um, but for, but for me, um, as you know, all the, the, the majority of innovation nowadays, it's in the small, in the companion animals, because there is the big, the big market, et cetera. So, there are, are, are most of, of things happening. So, what we should definitely not do, in my, my opinion, is, um, I mean, antelmintics will remain important, and we need antelmintics also for the ruminants and for the production animals. So, if we are going to, to blame antelmintics and make a very bad image, and this, and I think this is not, not the approach, um, they, they, we need them, um, and, and we, because if we go too far in that, there will be no, no motivation for investment, no, no, no new things, and then we, we really have a problem, I think. So, it, for me, it's still an important area, um, and there will be, yes, I, I, the companies, I think, are still looking for new, um, antelmintics, but, but what you hear is also, actually, today, for them, the, the, the lever, the, so the, the problem of resistance, let's say, is not yet big enough to, for them to have a market, to have a new antelmintic that overcomes, um, antelmintic, so, so actually, probably, the problem should first really increase, and then there is a new market that can motivate the, the companies, then, yes, for, 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 if we have now an antelmintic with a new working mechanism, then, then, um, this will work. Yes, I agree with you, and maybe we, as academics, and the field practitioners, we should promote the best practice on the use of the antelmintics we already have on the market. Thank you, Johannes. You're welcome. Tony. Thank you, Johannes. Io chiedo ancora ai presenti se ci sono delle domande. Excellent webinar. Congratulazioni. Ciao, Johannes. Grazie a tutti voi che avete reso questa, questo webinar piacevole anche. Hello, Giuseppe. Ciao, Johannes. Ciao. Ciao. Laura, sono tutti stanchi, forse, a questo punto. Sì, direi di sì. Sia da Facebook sia in Zoom. Direi di sì, direi di sì. E quindi lascio a te la chiusura, mio caro Marchese amico. Da cavaliere dovrei lasciarla a te, eh? In realtà. Comunque, facciamola a due voci. Facciamola a due voci. Io anche sono contenta e sono contenta per la SOIPA, perché davvero con questi webinar, con Antonio Varcasia dietro, stiamo facendo un passo avanti per il public engagement. Tutto è perfettibile, possiamo migliorare, però penso che ci stiamo almeno provando. E oggi è stata una giornata davvero importante, una giornata che è andata davvero dalla ricerca alla pratica. Quindi ringrazio tutti i relatori, ringrazio tutti i partecipanti. E il prossimo appuntamento di webinar SOIPA sarà a settembre, se non ricordo male. Ce l'avevo qua? Non me lo ricordo. Non lo ricordo, ma sarà... Ma vediamo un po' che io sono quello delle carte, ma sinceramente questa volta le carte non ce le ho. Sono sicura che sarà organizzato dal nostro presidente, da Simonetta Mattiucci, sui Fishborn Parasites. Dovrebbe essere a settembre. Dovrebbe. Ma vi informeremo. Assolutamente. Io mi associo ai ringraziamenti di Laura, assolutamente anche per me è stato un pomeriggio piacevole, sicuramente, ma anche molto interessante. E poi rappresentativo di iniziative che mi auguro, e sono certo che continueranno, soprattutto in un'ottica che è di apertura verso il mondo esterno. E quindi di una vetrina verso ancora chi non conosce effettivamente tutte le energie e la passione che, insomma vi permetto di dire, gente come noi mette in campo. E quindi è la nostra terza missione SOIPA che si realizza grazie ovviamente a tutto il consiglio direttivo, ma anche dal punto di vista non solo concettuale, che è di tutti, insomma, ma anche tecnico del nostro Antonio Varcasia, che ringrazio ancora, insomma, perché... Allora, Tony, ho controllato, a settembre ci sarà Spring Parastitology, quindi tutti i dottorandi da settembre a novembre, invece il webinar organizzato dal professor Bruschi e dalla professoressa Mattiucci sarà a novembre, ma vi daremo informazione. Perfetto. Quindi grazie, Tony. Grazie a te, Laura, e grazie a tutti, a tutti coloro che sono collegati, via Zoom o Facebook. Grazie. Buon abbraccio a tutti, virtuale purtroppo ancora. Ciao, grazie a presto. Sieni qua, io ti abbraccio. Thank you again, Johannes. Thank you, yeah. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao. Caro Mario, mi senti? Mario, accendi? Ah, scusa, certo che ti sento, Peppino. Come stai? Ti vedo in rosso. Rosso! In camicia bianca, vedi? Bianco-rossi. Credo che noi ci dobbiamo scollegare. Ho visto che Tony ha mandato un altro link per la nostra chiacchiera.